Buon sabato sera a tutti gli spettatori di La Sette, stanno aspettando il ritorno di Giovanna Botteri che ha passato la giornata in piazza per la manifestazione sulla Palestina, stiamo per incontrare Roberto Vecchioni e per la prima volta nel nostro programma Niki Vendola, in altre parole stiamo arrivando. E' verità universalmente riconosciuta che Giorgia Meloni abbia un piccolo problema di classe dirigente. Da due anni gli oppositori si sforzano di trovare una parola per definire i collaboratori, diciamo così, meno affidabili della Premier e ieri questa parola è saltata finemente fuori. E il bello che a dirla è stata proprio Giorgia Meloni. Racconta infatti il fatto quotidiano che nella giornata di ieri i capigruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia hanno scritto sulla chat del partito attenzione, martedì 8 ottobre alle 12.30 è indispensabile la presenza di tutti i parlamentari in aula per votare il giudice della Corte Costituzionale. Pochi minuti dopo quel messaggio finisce sui siti e la Premier si arrabbia, o se si arrabbia, alle 16.17 scrive nella chat Io alla fine mollerò per questo, perché fare sta vita, per eleggere sta gente, anche no, l'infamia di pochi, l'infamia, mi costringerà a non avere più rapporti con i gruppi. Interviene il Ministro della Difesa, Crosetto. Beh, lavorandoci un po', gli infami o l'infame si trova. E la Meloni aggiunge però, amara, c'è gente che per una citazione sul giornale si vende la madre. Detto questo, mi taccio, prima che esca qualcosa, pure da qui. Ops, troppo tardi, è già uscito, visto che l'abbiamo letto. E quella parola, infami, diventa il titolo. Certo, dare dell'infame a uno o più dei Fratelli d'Italia è davvero un'accusa molto pesante, Ma d'altronde, chi siamo noi per contraddire un Presidente del Consiglio? In collegamento da Milano, il nostro canta professore, Roberto Vecchioni. Ciao Roberto! Ciao! Senti, intanto tranquillizziamo tutti, visto che è stata una settimana complicata per gli spostamenti verso Roma. Non è che sei rimasto a Milano per colpa di un chiodo, come dice Salvini, un chiodo nel binario, anche tu, no? No, 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 il problema è che tu sei simpatico, la trasmissione è la più bella della TV, però la cosa primaria per la mia vita è la famiglia, e non posso stare due settimane via da casa. E abbiamo concordato così. Vuol dire che comunque tornerai molto spesso qua, ogni tanto sarai via a Milano, va bene. Senti un po', dimmi un po', ma che vuol dire infame? Che è una parola che oggi è diventata... Senti, facciamo una cosa a distanza che mi sembrava molto carina, vai alla lavagna per favore. Ah, di già? Vabbè. Sì, mando già alla lavagna. La DAD, ma ormai non si fanno più le lezioni. Guarda cosa ti faccio a scrivere. Bene. Scrivi, scrivi, B, H, Bologna, H, B, H, poi vicino, P, H, P, H, A. Non so assolutamente cosa sto facendo, vabbè. Non mi importa, sono due radici, dovresti metterci l'asterisco. Mezzo? No. Sono due radici, ci vogliono l'asterisco. E quindi qua così? L'asterisco davanti a sinistra. Ah. Ecco. Sotto fa, vedi che si legge fa, ci sono due verbi, scrivine uno solo, scrivi quello latino, fari, 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 come il fari, che significa parlare, parlare, quello greco è femì, che significa sempre parlare. Io metto solo parlare. Ecco, allora, la fama significa che è una voce, è un parlar tanto di qualcosa, però attenzione, se ci metti in davanti, in, qua, in fama, quell'imma è negativo. Cioè, in realtà significa persona di cui non si deve parlare mai perché è innominabile. Quindi è un famone, come si dice proprio a Roma, no? Vabbè, quella roba lì. È un famone. E quindi, ecco, sei stato bravissimo. No, che bravissimo, ho scritto bene, ba, ba, era giusto, va bene. Sì, ba è in europeo. Senti, a proposito di scuola, mi porto dietro il gessetto perché mi sa che dovremmo usarlo ancora anche dopo, hai visto la notizia di Ignazio Larussa? Ci tenevano a tua opinione. Ignazio Larussa, Presidente del Senato, ha detto al Ministro dell'Istruzione, Val di Tara, gli ha suggerito di far studiare nelle scuole il nuovo libro di Italo Bocchino, perché l'Italia è di destra. Tu pensi che io non avevo neanche finito il programma di Giovanni Pascoli, cioè mi chiedo se adesso ci aggiungiamo altri libri, è complicato. Non so, come facciamo? Cosa togliamo per dare posto al libro di Italo Bocchino? Cosa possiamo togliere dal programma del liceo? Possiamo togliere un sacco di cose, c'è un 600, un 700, qualche cosa, i primi scrittori degli anni 800 in Italia possono passare lisci, andare via. Però io proporrei invece il libro di Bocchino di insegnare nelle scuole tutte le canzoni di De Andrè. Ah beh, ci sto, ci sto, mi sembra una buona soluzione. Senti, De Andrè era un grande tifoso di calcio, antiposissimo del Genova, e chissà come avrebbe commentato quello che è successo questa settimana, l'inchiesta della Procura di Milano che ha finalmente scoperchiato il fenomeno del tifo organizzato che da anni sappiamo essere un fenomeno maleodorante. La dico in sintesi, è venuto fuori quello che sospettavamo, il calcio, lo stadio è un luogo franco, un portofranco, un luogo dove avviene qualunque cosa, qualunque reato e a nessuno importa, anzi sono tutti conniventi, perché anche le società alla fine per paura diciamo di ritorsioni accettano di subire ricatti da questi tifosi che non accetterebbero mai da dei tifosi normali. Io non posso che farti questa domanda, ma le luci a San Siro ci sono ancora? No, ma non esistono da tanto tempo Massimo, lo sappiamo tutti, lasciamo perdere il gioco, il gioco è sempre bello, il mezzo, loro non c'entrano, stanno giocando, quello che è tremendo è l'entourage, perché ormai come tutte le cose che contano, che hanno un fondamento, che contano perché fa far soldi, uno stadio e il calcio in generale è un centro di potere e quando c'è un centro di potere arriva la mafia, arriva l'Andrangheta, perché Milano è piena di Andrangheta, che tra l'altro non accetta persone che vengono da fuori, famiglie unite e comparte e che sanno sempre che cosa fare. Permettimi di dire una cosa, questa settimana è finita per via dell'inchiesta, si è parlato di Inter e Milan, ma è un fenomeno assolutamente che riguarda qualunque squadra e qualunque città, non c'è proprio nord-sud-centro, in questo è una cosa che riguarda, una settimana fa parlavamo di quegli ultra della Roma che hanno minacciato la ex direttrice generale, addirittura i suoi figli, altre cose in passato, ricorderete l'inchiesta di Report sulla Juventus, cioè riguarda tutti sui tifosi della Juventus, cioè riguarda l'idea che secondo me è assurda che ci sia della gente che di mestiere fa il tifoso, il tifoso è una passione, come siamo io e lui, ma come fai a stare un lavoro a fare il tifoso? Senti, altro tema Roberto però, che qui proprio mi devi aiutare tu, perché una delle cose che ha più incuriosito i lettori, anche quelli non interessati al calcio, è che è venuta fuori questa ragnatela, diciamo così, questa rete di amicizie fra i capi ultra e la scena rapper milanese, vari nomi, Tony F, Mischilla, Lazza e anche il Fedez che non è indagato, ma avrebbe fatto affari con gli ultra e poi sappiamo addirittura li avrebbe usati come guardie del corpo, un po' come i bravi di Don Rodrigo, ecco, ma secondo te, tanto è un fenomeno che ovviamente è nuovo o c'è stato anche nel passato della scena musicale milanese, è mai successo qualcosa del genere? Ma non è mai successo negli anni passati, si cantava e basta, si stava col pubblico, si urlava alla libertà e queste cose qua, che sembrano cose da poco ma sono cose da tanto invece, oggi la situazione è cambiata, la società è una struttura, noi siamo allo specchio di quello che avviene nei posti che comandano, quando devi comunicare alla gente, al pubblico, rabbia, in incertezza, in sicurezza, in cultura, assolutamente, e allora molto spesso ti accomuni a quelli che pensano che le cose contano più dai pensieri. Questo mi rassegno, le cose che contano più dai pensieri, dopodiché diciamo che anche nella musica di oggi ci sono dei cantautori, non è che siamo tutti... Ma di fede si voglio bene, non credo che c'entri con tutte queste cose, con tutto quello che ha fatto, perché ha fatto del bene sempre, quindi gli voglio bene anche. Noi ci auguriamo che esca da questa vicenda, però rimane il fenomeno, rimane comunque il fenomeno di questi rapporti che quando leggi i documenti della magistratura sono veramente impressionanti. Roberto, ora, anche se sei là, devi fare il solito lancio, la rubrica Vecchioni, conosce tutti. Sì, prego. Chi è il nostro primo ospite di questa sera? Il primo ospite di questa sera, dico prima il nome o come l'ho conosciuto? Prima come l'hai conosciuto? Allora, l'ho conosciuto in una masseria di Otranto, della nostra amica Elisabetta. E qui già ci scoscrivi il campo, quindi è un pugliese? È un pugliese, certo che ha avuto dei ruoli importantissimi in Puglia, ma soprattutto è un uomo di passione, di cuore straordinariamente portato alla gente, al popolo e alle parole che ho detto prima, libertà, eccetera. Vai col nome. Si chiama... si chiama Nichi Vendola. Evviva Nichi Vendola. Non sapevo da che parte uscivi. Devi tornare? Benvenuto. Accomando. Salve. Eccoci qua. Beh, insomma, un applauso ti assicuro non pilotare. Ciao Roberto, grazie. Stavo po' sulla penna e invece ancora il gassetto. Ciao. Sentite, allora, è bello avervi tutti e due intanto per commentare le notizie delle ultime ore. Tra poco ci raggiungerà Giovanna Boteri che è stata tutto il giorno in piazza e ci documenterà gli incidenti che ci sono stati conferiti nella polizia e un fotografo picchiato da alcuni manifestanti. Insomma, intanto, tu eri alla manifestazione, sei andato o non sei andato? No, non sono andato o non sarei andato. In ogni caso perché per me qualunque manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese deve avere in premessa un giudizio netto sulla carneficina del 7 di ottobre. Non si combatte la barbarie cancellando, rimuovendo la barbarie. Io vedo oggi da un lato l'orrore prodotto da Hamas, non riesco ad avere nessuna simpatia per gli Esbollah e per il loro riferimento che l'Iran della teocrazia, quella che massacra le donne, le ragazze. Per me l'Iran mi fa battere il cuore pensando sempre a donna, vita, libertà, a questo slogan che con grande coraggio una generazione di giovanissime rischiando le torture, rischiando la reazione della polizia. E quindi il 7 ottobre è un punto che non si può minimizzare o rimuovere perché una carneficina di ragazzi riuniti in questa zona del deserto a ridosso di Gaza, vicini a quei kibbutz dove abitano prevalentemente amici dei palestinesi, e l'idea che sgozzare, torturare, stuprare, sequestrare dei ragazzi possa essere considerato un inizio di rivoluzione o un episodio di resistenza, io non lo condivido. A questo fatto barbarico il governo di Netanyahu ha reagito e sta reagendo in questo momento perché l'area del conflitto, dopo aver devastato Gaza, dopo aver consentito ai coloni appoggiati dall'esercito di continuare nella West Bank, in Cisgiordania, l'opera di colonizzazione violenta, ora il conflitto si è allargato a Libano, allo Yemen e probabilmente all'Iran. Allora abbiamo la guerra sopra le nostre teste tra russi e ucraini, la guerra sotto i nostri piedi, in questo Medio Oriente che è ritornato a esplodere, in un mondo in cui la parola pace è stata semplicemente abolita, non si parla di disarmo, non si parla di mediazione, di compromesso, ma tutto il mondo politico, tutte le elite mondiali sembrano avere intrapreso, diciamo così, la strada della corsa al riarmo. E anche noi che siamo seduti comodamente nei nostri salotti siamo reclutati perché le parole si stanno militarizzando, le parole si stanno incattivendo, c'è una specie di reclutamento ideologico alla guerra, nelle retrovie, e una si comincia ad assuefarci all'orrore. Io di fronte al fatto che ci sono 16.000 bambini massacrati a Gaza non mi rassegno. Noi spesso qui siamo in un programma di parole, abbiamo notato più di una volta come ad esempio oggi si parli delle bombe atomiche come se fosse un argomento di conversazione. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, ha evocato la necessità di un bombardamento dei siti nucleari iraniani. Questo per dire in quale mondo... Torniamo un attimo a oggi, questa manifestazione era vietata, come sappiamo è stata vietata. Questo è un problema per me. Secondo te è stato un errore vietarla? No, è stata una scelta, è una scelta emblematica, diciamo, del ministro di polizia, del ministro dell'interno, che è un ministro di polizia come Piantedosi, del governo di destra, perché in tutta Europa oggi c'erano manifestazioni a favore dei palestinesi, dei diritti dei palestinesi, e vietarla, il divieto, porta nella pancia esattamente quello che è accaduto. Cioè è il palcoscenico per i più facinorosi, per i più violenti. Invece io penso che, come in tutta Europa, andava consentita la manifestazione, è che la polizia debba intervenire soprattutto nei confronti di quelle frange, isolare i violenti, i teppisti, quelli che non c'entrano niente con i bambini di Gaza o della Cisgiordania. Senti, Roberto, volevo sapere anche la tua opinione. Non è facile, sai. Non è facile perché, come ha detto Niki, ci sono alleanze stranissime. Ci sono alleanze tra popoli veramente indietro, come l'Iran, come l'Afghanistan, che non danno nessun diritto alle donne, nemmeno di entrare nel negozio. No, ma io non ti chiedevo una posizione, lo so, ti chiedevo sulla manifestazione, sulla piazza. Era giusto o no vietare questa manifestazione? Niki ci ha spiegato perché... No, ma esiste, no, vietare è un'altra cosa. Cioè uno Stato può, uno può anche vietare. Ma personalmente io, io personalmente, e ti stupirò e probabilmente scandalizzerò qualcuno, a volte non sto alle regole. Io ci sarei andato perché seguo il cuore, non le regole. E oggi è una giornata più importante per la politica perché la notizia così, me la dico, Antonio Tajani, che è il leader di Forza Italia, ha presentato una proposta di legge sullo Ius Italia. Lo dico in parole, spero, corrette anche se semplici. Cioè se tu per dieci anni continuativi studi con profitto, vieni promosso a scuola, hai diritto a chiedere alla cittadinanza. Che vuol dire? Che non devi più aspettare i 18 anni. Se già in prima elementare comincia ad andare a scuola in Italia, arrivato al secondo anno del liceo, puoi chiedere, cioè dieci anni, puoi chiedere alla cittadinanza. Ecco, vi faccio vedere come il popolo dei giovani leghisti a Pontida ha reagito alle parole del loro alleato Antonio Tajani. Guardiamo. Tajani scatista! Tajani, Tajani, baffa al culo! Tajani, Tajani, baffa al culo! Tajani, Tajani, baffa al culo! Ecco, quindi diciamo che nel centro-vesta è nata la corrente degli scafisti. Oggi c'è Tajani, si ritrova leader della corrente degli scafisti. Ecco, che effetto ti fa? Ma è l'effetto, diciamo, legato proprio alla mistificazione. Ha chiesto scusa, Tajani, però comunque il fatto rimane. Quello è il teatrino. Quello che conta è l'opera di corruzione della vita pubblica, di avvelenamento della discussione, della cultura diffusa. Quando, diciamo, il diritto di qualcuno viene comparato all'esercizio di un'attività criminale, come quella degli scafisti, siamo veramente su un terreno di manipolazione totale. Gli scafisti forse sono amici di qualcuno del governo. Io vorrei ricordare che qualche giorno fa è stato assassinato BIA, uno dei capi della Guardia Costiera Libica, che il governo italiano finanzia, e che anche l'Unione Europea finanzia. BIA è stato l'oggetto delle inchieste fatte sul quotidiano dei Vescovi a venire da Nello Sclavo, e Nello Sclavo è stato minacciato da questa mafia travestita da Guardia Costiera. I trafficanti di esseri umani che c'entrano con i diritti di ragazzi e ragazze che sono nati in Italia e che diventano grandi senza poter godere, diciamo, di quello che, per esempio, mio figlio che è nato negli Stati Uniti d'America gode. Mio figlio ha cittadinanza americana, oltre che italiana. E come tu avresti mai immaginato un giorno di andare d'accordo con Tajani? Cioè, per dire, è una cosa che... Tajani propone qualcosa che è un minimo sindacale, perché, diciamo, siamo proprio alla decenza minima, e lo propone sapendo che non si farà, perché, come dice la Meloni, non è nel programma di governo. Cioè, i diritti di centinaia di migliaia di ragazzi che nelle nostre scuole, nei nostri quartieri, vivono con i nostri figli, parlano l'italiano a volte meglio dei nostri figli e parlano i dialetti. Però è un segnale politico importante. Poi magari non si farà, però vuol dire che all'interno del governo di centro-destra c'è una forza che ormai vale la Lega, se non di più, nei sondaggi, che si schiera sui diritti più vicino alle posizioni del centro-sinistra che a quelle del governo. Non è una notizia da poco. Il problema è che Forza Italia governa insieme a delle formazioni politiche che hanno accresciuto il loro consenso sdoganando il raccismo. Quando Salvini, quando era giornalista a Radio Padania, parlava di derattizzazione, parlando dei rom e dei sinti, usava l'espressione derattizzazione. O quando la Meloni dice sono nomadi che devono nomadare, cioè usando un lessico violento, discriminatorio, privo di qualunque elemento di conoscenza della complessità. Stai facendo ridacchiare il prof. No, io lo rido perché quello che dice Nicchi è il perfetto, lo ascolterei per minuti e ore. Ma ora invece è lui che ascolta te, perché io adesso vado alla lavagna, perché... No, aspetta, ti devo dire una cosa su Tajani. Tajani lo seguo da tanto. Lui da scarfista dovrebbe diventare scartista, cioè piantare lì la destra e formare un centro giusto con gli altri, perché è fatto così. Hai capito, Vecchione ha lanciato il nuovo campo largo questa sera. È un momento... abbiamo fatto la storia. Roberto, ma hai sentito il tuo amico Papa a proposito di diritti? Cioè parlando di aborto ha definito i medici non obiettori li ha definiti dei sicari. Come la mettiamo? Eh sì, l'ho sentito, ma lui è un po' pesante, certo, ma segue i libri sacri, è onesto, dice quello che deve dire. Però facciamo un giochino, facciamo un giochino, vai ancora alla lavaglia perché io non ci sono. Scusami, sono ripetente, forse mi danno lo Jussi Taglie anche a me prima o poi. Vediamo, giro. Vediamo chi sono i sicari. Ecco, vediamo se... ecco, vai. Allora, sicario, 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 che significa assassino, viene da Sica. Scrivi Sica. Sica. Eh lo so, la bambina odiavo questa cosa. Sica uguale pugnale. Pugnale. Significa, significa pugnale. Tu ti chiederai, ma perché Sica significa pugnale? Ecco, vediamo, lo chiedo, perché Sica significa pugnale? È proprio la domanda. Perché viene dal verbo secco, che significa tagliare. Secco. Secco sotto. Che significa tagliare. e anche segare. Certo. Anche perché la Sica è un coltello arrotondato, per cui qua... Eh sì, certo, ha una punta arrotondata. E lo usavano i romani, naturalmente. Per cui, quando entrava nella pelle, tagliava, segava, eccetera, eccetera, faceva di tutto. Da allora, quelli che usano la Sica sono chiamati Sicari. Sicari. La parola probabilmente, la parola probabilmente ci deriva da molto lontano, ci deriva dalla traccia, perché era una cosa... Quindi gli ha dato degli assassini, sostanzialmente. Ha dato i medici degli assassini. Gli ha dato degli assassini. E allora, visto che ha dato dei medici degli assassini, ricordiamo che il medico viene da Mederi. Scrivi Mederi. Mederi? Mederi con l'ultima... È lunga. L'ultima è lunga. Mettici un... Sì, perché ho un accento. Bravo. Mederi. Mederi, sì. Un ricordo proprio del... Sono passati gli ultimi anni da quando ho fatto il liceo. Sì, prego. Significa curare. Curare. Guarire. È un verbo deponente, eh? Quindi guarisci l'altro e te stesso. Meno male che sabato sei di nuovo qua, perché io non sono negato a fare questa roba. Bene, Mederi, bene. La cosa bella è la radice del... Metti giù la radice. M-A-D-H. 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 Sì. Esatto. M-A-D, radice indoeuropea, significa sapere, conoscere, essere all'altezza. Da cui viene anche la matematica, per esempio. M-A-D-H. M-A-D-H. Quindi i medici sanno quello che fanno, hanno una coscienza. Ma per fortuna, volevo dirti che per fortuna ho letto, questa è una bellissima notizia, che il Premier ha definito, ci vengo a sedermi, che ha definito inaccettabili le parole del Papa e ha subito convocato il nunzio apostolico della Capitale per delle spiegazioni. Premier belga? Mi hai rovinato la battuta, va bene, sì, facciamolo vedere, è il Premier belga. Io diciamo per dire, brava Giorgia Meloni, e invece, e invece, guardiamo lo strappo, era il Premier belga, Alexander De Cru, e lui che ha fatto questa... È un peccato, veramente. diciamo, questo, vorrei considerarlo un incidente, perché un conto è la contrarietà nei confronti dell'aborto che la Chiesa Cattolica ha sempre avuto. Altro conto è considerare che la legge 194 ha cancellato la vergogna degli aborti clandestini, le donne morivano sui tavoli delle mammane con aborti praticati con i ferri per fare a maglia ed era una strage proletaria, perché le donne ricche andavano in Svizzera o nelle cliniche private ad abortire. E vorrei, forse, e penso anche, che questo, diciamo, questo scivolamento lessicale di un Papa che invece ci ha spesso aperto il cuore alla speranza con encicliche e un magistero straordinario fondato sul tema della fraternità, che questo incidente ha a che fare con la natura della Chiesa Cattolica, cioè la natura maschile e patriarcale della Chiesa Cattolica. Bisognerebbe lasciarsi invadere dalle teologhe, dalle suore che portano, che possono portare un vento nuovo anche nella Chiesa. stasera stiamo facendo dei cambiamenti, abbiamo cambiato la storia del centro-sinistra con Tajani, abbiamo messo Tajani di là. Adesso diamo il potere in Vaticano alle suore. Non ci resta che risolvere un problema, Roberto, la manovra economica non è un problema da poco. Perché davanti a una platea di operatori della Borsa, che forse non è proprio il posto migliore per dirlo, il ministro Giorgetti ha detto, forse ci vorrebbe la patrimoniale, sacrifici per tutti, e per le aziende e per i cittadini più facoltosi, tra l'altro facendo il verso al premier francese che questa settimana ha detto le stesse cose, anche lì cosa curiosa, in Francia Macron ha messo un premier di centro, diciamo, per non darlo a quelli di sinistra che avevano vinto le elezioni, il premier di centro ha detto una cosa di sinistra subito, dicendo bisogna la mettere alla patrimoniale. Ecco, Niki, tu stai con Giorgetti o con Salvini e Meloni che lo hanno subito naturalmente redarguito, dicendo non si mettono le mani nelle tasche degli italiani? Consiglierei a Tajani la lettura di un libricino scritto nel 1905... Tajani? A Tajani, a Tajani, di un libricino scritto dal Papa, dal Papa laico della cultura liberale, da Einaudi, che si chiamava l'imposta patrimoniale, che spiega come nei momenti, diciamo, di crisi drammatica l'imposta patrimoniale è uno strumento di tutela della convivenza e della democrazia. Mi fermo. I sacrifici già si fanno, sono prevalentemente, direi, nella stragrande maggioranza dei casi sulle spalle dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, quindi questo è un posto incredibile, evocare la tassazione delle grandi ricchezze o degli extraprofitti genera un turbamento cosmico. Vorrei ricordare che la diseguaglianza è diventata insopportabile se è vero che una fascia crescente di persone che percepiscono la busta paga in quanto lavoratori sono collocati nell'area della povertà perché loro è un lavoro precario, a tempo, a tempo determinato. Ecco, e poi sai cosa farà il governo Meloni? È un classico perché la sorella d'Italia e sua sorella Arianna hanno detto niente d'asse, quindi siccome la manovra dovranno farla, sai cosa faranno? Sposteranno tutto il problema sui comuni e sulle regioni in modo tale che il taglio dell'ospedale, il taglio dei servizi sociali, il taglio delle scuole, il taglio del riscaldamento delle scuole sarà un problema per cui se la dovranno prendere con i comuni e con le regioni è un classico già oggi c'è una quantità di comuni gigantesca che sono a rischio di defo di dichiarare il fallimento e vedremo che succede. E poi non so anch'io faccio una profezia secondo me Roberto voglio sentire cosa ne pensi vedrai che alla fine recupereranno almeno la metà della cifra ricorrendo come peraltro avviene da sempre in questo paese aumentando le tasse sulle sigarette che per carità è una cosa sacrosanta ieri anche gli oncologi l'hanno chiesto ma ogni governo gira e gira perché parliamoci chiaro qualunque lobby in Italia va in piazza a protestare ma nessuno nessun fumatore di sigarette va in piazza a protestare perché prova anche imbarazzo quindi a Giorgia piacerebbe perché ha a che fare diciamo con il suo teatrino no tassare gli extra profitti Giorgia vorrebbe ma basta una telefonata di Marina e quindi si interrompe diciamo questa volontà di giustizia sociale allora non è fatica tu dicevi che le suole avrebbero chiamato ma che cano le donne però quella che sta a Milano si ho capito quindi in questo caso le tre donne della destra domina un matriarcato liberista che non è non te lo aspettavi dopo tanto il patriarcato sperava che almeno il matriarcato fosse di sinistra invece è capitato di destra pure il patriarcato allora senti senti mi ascolti vai Roberto allora allora a parte che questa espressione mettere le mani nelle tasche degli italiani ha rotto i gabasisi prima prima di tutto se tu metti le mani nelle tasche degli italiani non ci trovi niente quindi mettiamo un po' le tasche invece nelle mani nelle tasche di chi ce li ha questi soldi allora sì la cosa comincia ad essere equa e giusta e cominciamo almeno a dare un indirizzo civile a una società e a un paese Roberto posso darti un compito per la prossima settimana di andare a prendere i soldi ai ricchi no di studiare studiare tutti i sinonimi che usano i politici per non dire la parola aumento delle tasse questa settimana tutti parlavano di rimodulare che guarda che bella parola dobbiamo rimodulare che vuol dire aumentare giocano moltissimo con le parole ma quello che dice Roberto è importante l'espressione non mettere le mani nelle tasche degli italiani è un'espressione veramente loffia per una ragione tu devi rivendicare il significato del prelievo fiscale il prelievo fiscale è quel contributo che ci consente come comunità nazionale di finanziare il diritto alla salute il diritto all'istruzione e le cose fondamentali che ci rendono una nazione civile allora se tu invece lo delegittimi naturalmente non a chi ha busta paga perché lì il prelievo è alla fonte è alla fonte ma chi invece diciamo gioca tra i paradisi fiscali e il nero allora si costruisce veramente questa idea che ci sia qualcosa di criminogeno nel tassare le ricchezze vanno tassate vanno tassate ultima battuta proprio risposta secca se tu fossi Ellic Lain a proposito di matriarcato se tu fossi Ellic Lain come partner sceglieresti politico sceglieresti Conte o Renzi ma guarda risposta a drittà no 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 non nessuna esitazione nel dire che non sceglierei mai Renzi ma non per un fatto personale o per un fatto di antipatia e anche non capisco questa enfasi che c'è sui giornali e nei talk sul fatto che va in crisi il campo largo se perde un centimetro quello di Renzi non è che va in crisi il campo largo anche perché quel centimetro di Renzi ci fa perdere chilometri di consenso con il mondo del lavoro con i giovani precari con quelli che il giorno in cui Renzi ha immaginato la cancellazione dell'articolo 18 quello che diceva nessuno può essere licenziato se non vi è una giusta causa nel giorno in cui ha fatto il job act che ha generalizzato la precarietà in questo mercato del lavoro si è creata una ferita talmente grande che ti spiega il fatto che lui che era uno dei leader più popolari che veleggiava oltre il 40% oggi ha numeri da prefisso telefonico nei sondaggi e poi c'è un problema che riguarda anche la commissione tra fare politica e attività lobbistica io penso che chi fa politica non debba avere nessun contratto privato e non debba svolgere attività lobbistica per grandi aziende penso che sia un fatto necessario e ogni riferimento è puramente causale grazie a Roberto Vecchioni che rivediamo sabato prossimo qui in studio con noi e grazie a Niki Vendola che ci verrà presto a ritrovare grazie ancora voi restate lì perché stiamo per cominciare stasera abbiamo con noi Giovanna Botteri Alessandra Sardoni Mario Calabresi Barbara Ronchi Diego De Silva e Margherita Carducci Aglias dito nella piaga lo spettacolo delle parole sta per cominciare avremo anche Jacopo e Saverio naturalmente a dopo e diamo il via allo spettacolo delle parole con la parola chiodo entra Alessandra Sardoni Mario Calabresi con la parola Bosco e con la parola Piazza Giovanna Botteri Alessandra eccoci e anche Giovanna questa sera vi ho tutte e due in studio la prima volta che succede allora Giovanna salutiamo Mario Alessandra sei un abitue anche Mario però perché ormai ogni anno ci viene a trovare questa sera ci porterà una parola bellissima con una storia che sentirete fra un po' da respirare a pieni polmoni e ne avremo bisogno perché prima invece partiamo da quello che si i polmoni sono pieni di lacrimogimi Giovanna come è andata? la manifestazione in realtà è stata pacifica è andata bene fino a questa ultima cosa forse possiamo vedere le immagini perché ci siamo trovati ci siamo trovati proprio dentro agli ultimi scontri la piazza è stata completamente blindata completamente isolata sono immagini che avete girato che siamo immagini che abbiamo girato e poi un gruppetto assolutamente isolato che non aveva niente a che fare con la manifestazione assolutamente pacifica poi vedremo anche le voci c'erano anche bambini famiglie ha iniziato questo scontro con la polizia questa è la guardia di finanza che teneva questo è Viale Ostiense e gli scontri sono cominciati ad essere duri 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 credo che ci siano una trentina di feriti tra agenti e manifestanti c'è una ragazza tra i manifestanti ferita gravemente c'è anche un fotografo c'è un fotografo più di uno soltanto noi ne abbiamo almeno filmati due perché c'è stato il lancio di lacrimogeni c'è stata la carica ci sono stati gli idranti e salita la tensione e quindi questo gruppetto di black bloc non voleva essere filmato ed è da lì che sono partiti gli attacchi sostanzialmente ai giornalisti ai fotografi che stavano in quel momento la situazione è diventata quindi attacchi da parte di questi che non volevano essere filmati il problema era che la piazza era piena perché la piazza era assolutamente piena si parla di 7 10.000 persone quindi una piazza piena con la polizia che carica i lacrimogeni e naturalmente c'era la gente che ha partecipato alla manifestazione e che le ha prese tra lacrimogeni i idranti i sassi i pietre questo vedi qui si vede il proprio che portano via vedi la gente ferito che lo stanno portando via per ripararlo in mezzo ai lacrimogeni e qui è la carica a un certo punto che parte lungo la piazza proprio sotto la piramide ancora piena questa è una delle ragazze dei 5 arrestati insomma la prima cosa che mi vorrebbe da chiederti è girando poi adesso vedremo anche l'immagine del servizio che hai fatto ma la percentuale diciamo di persone che era lì per piantare grane era minima rispetto ma era minima era come sempre come sempre facilissimamente identificabile da parte nostra e da parte delle forze dell'ordine perché è sempre così io ricordo dal G7 di Genova in poi è facilissimo capire chi è la famiglia con i bambini e chi sono i black bloc che arrivano già bardati e già scuri ma con la giornata che è stata perché c'è stata una gran pioggia e tutto ci sono stati blocchi c'è stata un sacco di gente fermata con foglie di via si pensava che non sarebbe arrivata nessuno invece è arrivata tanta gente e tutta una parte di gente che voleva manifestare non contro ma per per la pace e per la fine della carnificina in Medio Oriente da una parte e dall'altra e invece c'era poi questa minoranza che invece era andata lì sì una minoranza facilitata anche da questo clima di tensione che ha continuato a crescere voi ne avete parlato secondo te questo fatto di aver vietato la manifestazione ha dato quasi un pretesto ai balordi per mettersi di evidenza o no diciamo una cosa che vietare la manifestazione alla fine non è servito a niente perché la manifestazione c'è stata gli scontri ci sono stati e penso che io personalmente non avrei vietato la manifestazione penso che sia stato un errore e non penso che questi che hanno fatto gli scontri non li avrebbero fatti se la manifestazione fosse stata autorizzata cioè questi gruppi anche perché sono i gruppi che hanno attaccato con le pietre con le molotov erano una minoranza come hai detto tu però sono loro che hanno attaccato quindi non credo che sarebbe stato diverso però avere vietato la manifestazione forse ha radicalizzato ha svuotato la parte pacifica della piazza e ha lasciato gli altri quelli che sarebbero andati e forse ha lasciato anche a casa tante persone che sarebbero andate a manifestare ma non c'è dubbio tra l'altro è strano perché non capisci poi lo vedrai anche delle immagini c'è stata veramente una piazza blindata e un filtraggio molto attento di chi arrivava in piazza e non si riesce a capire come questi siano sostanzialmente passati è abbastanza difficile da capire Alessandra penso anch'io che alla fine sia stato un errore vietarla anche perché ha continuato ha alimentato le polemiche sul fatto che si possa vietare per i contenuti e questo non funziona bisogna comunque anche come gestione di ordine pubblico è stata una scelta poco politica per certi versi direi di sì perché comunque le ragioni di ordine pubblico non sono state le uniche adotte c'era tra una delle motivazioni comunque c'era anche il timore di cose e poi come dire di vietare la concomitanza era troppo a ridosso del 7 ottobre c'è anche da dire però che molte delle associazioni di palestinesi si sono adeguati a questo quindi non sono andati in piazza e ci andranno il 12 quindi questi erano comunque una parte delle associazioni perché c'è stata una frattura all'interno della grande comunità palestinese in Italia diciamo tra i giovani palestinesi che avevano già deciso e che hanno detto noi la facciamo perché dobbiamo difendere facciamo comunque costo e gli altri che hanno detto però che avevano una piattaforma questo è il punto e questo penso che lo vedremo dalle immagini e te lo volevo chiedere se c'erano degli slogan contro Israele assolutamente allora io ho anche letto noi siamo stati davvero dall'inizio non ci sono stati slogan per Gaza per la Palestina contro quello che sta facendo Israele non c'è stato uno solo slogan con l'antisemitismo queste follie tipo contro non so l'ala segre tipo con le cose che avevamo visto nei giorni scorsi vediamo le immagini che dici guardiamo guarda questo è e l'inizio l'inizio quando comincia proprio la manifestazione sotto una pioggia incredibile che vediamo perché è arrivato questo divieto noi saremmo scesi in piazza in ogni caso perché sappiamo che abbiamo una responsabilità abbiamo una responsabilità nei confronti del nostro popolo del popolo palestinese che sta pagando un prezzo altissimo per lottare per la propria libertà per una vita degna per vivere nella propria terra e anche per il popolo libanese che proprio in questi giorni sta pagando un prezzo altissimo il prezzo più alto ma rivendicare la propria appartenenza alla sua terra e per questo scendiamo in piazza oggi per questo quello che fa il nostro popolo lo definiamo resistenza è una cosa assurda e disgustosa dire che siamo qui per festeggiare un eccidio ma stiamo scherzando noi siamo qui proprio per dire al mondo intero che basta eccidi basta violenza e basta guerra io sono di origine ebraica ma vi rendete conto cioè non è possibile dire una cosa del genere la guerra deve finire senza se senza ma il mondo è in mano ai folli ed è contro la follia che siamo qua basta ammazzare i bambini biondi mori castani ucraini palestinesi israeliani basta ammazzare i bambini vi prego questo è una lotta pacifista non c'è nessuna violenza né verbale né quantomeno fisica quindi noi vogliamo dare un segnale con i bambini per poter dire che qui ci si può andare con tutti con tutte le persone possibili che può essere il bambino piccolo con l'adulto con l'anziano ed siamo contro questo momento di violenza barbarie mondiale non solo in israele e in palestina ma in tutto il mondo questo avete visto anche voi era un po' quello che si respirava in piazza assolutamente molta gente che è arrivata semplicemente per dire questa cosa angosciante che ha ognuno di noi a sentire quello che sta succedendo da mesi dal 7 ottobre come diceva la signora dall'ecciso del 7 ottobre altri così per dire no per dire basta in qualche modo per fare qualcosa per far sentire una voce ecco Mario come sempre la domanda che ci facciamo è invece i black bloc che partecipano a queste manifestazioni e se ne impossessano in qualche modo poi nella titolazione dei giornali inevitabilmente l'atto violento prevale sul resto cioè perché lo fanno da chi sono adesso io non voglio fare il complottista perché lo fanno non ti so rispondere ci sono sempre state ci sono queste frange violente ricordiamo che sono 30 poliziotti feriti e la violenza la vediamo e l'abbiamo vista racchiudere tutto nella violenza è un errore però non possiamo non condannarla dobbiamo anche che va e marginale perché avete fatto bene a far vedere le due facce e a far parlare persone che dicevano cose ragionevoli e da ascoltare perché insomma dovete mi dire una cosa che anche se sono retorica francamente non me ne frega niente cioè il disarmo è innanzitutto una cosa interiore cioè è inutile innenziare il disarmo lanciando una molotov cioè c'è qualcosa che non va nella tua testa perché la pace se puoi essere pace devi esserlo dentro prima che dirlo è così qui però naturalmente c'erano tante ci sono tante componenti diverse in queste che vanno in piazza in questo caso in questa protesta propal ci sono frange diverse quindi è chiaro che è bene che ci sia stato un messaggio come quello che Giovanna ha restituito però c'era anche una piattaforma che insomma aveva anche dei contenuti diversi e meno pacifici perché credo che ci sia bisogno che la gente ha bisogno in questo momento di far sentire la propria voce che è una voce contro la guerra contro la violenza contro Hamas e l'ecidio di Hamas contro 50.000 morti civili a Gaza contro questa minaccia di guerra che sta su di noi perché questa sera stiamo attaccati alle notizie perché potrebbe esserci l'attacco di Israele sull'Iran ecco io credo che la gente angosciata da tutto questo abbia anche voglia di dire non lo vogliamo vogliamo trovare un accordo e vogliamo trovare una pace grazie Giovanna e tra l'altro questa sera la buonanotte la farò proprio dedicata cioè raccontrò la storia di una donna israeliana nel kibbutz il 7 ottobre che secondo me non rappresenta un israeliano rappresenta una donna e una madre universale la donna e la madre di tutto il mondo che quella signora quella Maria che tu hai fatto parlare rappresentava molto bene veniamo e torniamo invece a una cosa si fa per dire più leggera è stata una settimana di fuoco per i trasporti in treno e tutto per colpa di un chiodo abbiamo scoperto maledetto chiodo ce l'ha rivelato il ministro dei trasporti Salvini ci ha detto che tutto colpo di un che dopo ne parliamo ma intanto volevo sapere è vero che sei stata coinvolta anche tu in questa vicenda è vero che mi sono trovata in questa Roma in questa stazione Termini a Roma alla mattina molto presto con tutti i tabelloni spenti e quindi e tu stavi andando stavo andando a Venezia e mi sono trovata così ma insomma come tantissime altre persone stranamente avevo anche preso un giorno libero e c'era questa quindi tutto sommato era meno grave per me che non per tante altre persone che andavano per lavoro però ecco mi sono trovata in questa situazione in cui non si capiva niente nessuno diceva niente non c'era arrivavano questi messaggini contraddittori e poi naturalmente sono state particolarmente urticanti però a quel punto io ho rinunciato a partire ma è stato urticante sapere che era colpa di un chiodo ma ti devo dire la verità Massimo in un certo senso ancora di più vedere la foto cioè quella fotografia con questa centralina con le piante così via e che non si capiva poi dov'era come è accaduto ti fermo perché adesso prima ci facciamo un ripasso ecco la foto ci facciamo un ripasso su tutta la vicenda con il nostro influencer Andrea Nuzzo che ci racconta la vicenda del chiodo e di Salvini su web mercoledì 2 ottobre un blackout alla cabina elettrica del nodo ferroviario di Roma paralizza per oltre due ore i treni nelle stazioni di Termini e Tiburtina il guasto manda in tilt la circolazione in tutta Italia causando cancellazioni e ritardi fino a 4 ore mentre migliaia di persone rimangono bloccate nelle stazioni alle 9.42 sul profilo twitter ufficiale del ministro di trasporti Matteo Salvini compare questo tweet dedicato alla festa dei nonni e di fronte a questo messaggio forse nel giorno più complicato dell'anno per le ferrovie gli utenti hanno risposto in massa qualche cuoricino per la foto tanto tanto turpiloquio ma anche parecchia ironia mista sarcasmo tutto bellissimo ma i treni? volevo dirti in amicizia che la circolazione di treni da e per Roma è sospesa quando hai due minuti buttaci in occhio ho sentito nonna è ancora bloccata col treno neanche i treni sapete più far arrivare in orario e ancora gentile Giorgia Meloni può per favore creare un ministero per i nonni i rosari e la coppa piacentina metterci Salvini e trovare qualcun altro per le infrastrutture? grazie e anche in questo caso dal commentare al me mare è un attimo ci scusiamo per i disagi il ministro è impegnato a fare gli auguri ai nonni bagioni ecco erano tutti neri erano tutti neri allora di nuovo tra l'altro non sta finendo anche mentre parliamo ci sono ancora dalle sedi questo pomeriggio di nuovo la linea bloccata anche ieri e comunque se possiamo dire una cosa in realtà in un certo senso mi ha stupito il fatto che solo questo grande blackout romano abbia come dire portato alla ribalta una questione delle responsabilità del ministero visto che tutta l'estate e non solo l'estate ricordi i blocchi di Ferragosto hanno fatto i lavori la settimana di Ferragosto c'è un tema che c'è la manutenzione infatti mi hanno scritto dei lettori dicendo perché parlate solo di quello che succede su un'altra velocità noi pendolari abbiamo problemi tutti i giorni ma non facciamo notizia poi è ovvio che quando una cosa succede a Roma o a Milano a una cassa di risonanza maggiore c'è qualcuno che ha scritto che il duce faceva arrivare i treni in orario quindi questo è il governo più antifascista della storia mi pare che sia Massimo Gramellini sì vabbè però effettivamente effettivamente è un po' così però io sono rimango sempre affascinato lo confesso io dagli elenchi di Salvini perché anche stavolta ho riuscito a fare degli elenchi ho riuscito a fare gli elenchi lui ha chiesto ha anche detto voglio avere di questa ditta privata nome cognome codice fiscale è questo però questa storia come dire merita perché poi se ne è parlato per giorni se ne parlerà ancora però mi ha colpito anche come un ragionamento un po' di sistema riferito alla persona di Salvini e cioè Salvini rappresenta una tendenza che c'è per tutti per tutti i leader politici quella della personalizzazione della politica anzi proprio sulla stampa ho letto questa parola che mi è piaciuta ti porto questa parola oltre a chiodo metto fascismo cioè è un pezzo di Flavia Perina Salvini mette la faccia è da tutte le parti e quel giorno però la faccia invece non l'ha voluta mettere ed è una tendenza che c'è molto italiana personalizzazione della leadership io metto fascismo però questo non va di pari passo anzi è inversamente proporzionale all'assunzione di una responsabilità individuale che sono responsabilità di gestione di amministrazione e quindi mi è sembrato che Salvini rappresenta molto fortemente questa cosa è anche un'altra tendenza quella la campagna elettorale permanente perché lui è sempre in campagna elettorale anche questo succede a tutti ma Salvini poi alla fine ne rimane anche vittima perché Nuzzo ci ha fatto vedere quel post dei nonni e c'è una cosa che c'è scritto ore 9.42 ora siccome io ero lì alle 9.42 ancora mi ha dato particolarmente fastidio e penso che questa campagna elettorale ti fa fare anche delle scivolate perché proprio a quell'ora a quell'ora dice queste cose e infine c'è un'altra riflessione che tu non puoi scaricare su un chiodo su una persona ma forse nemmeno su una ditta perché poi anche la questione dei subaffalti l'abbiamo detto tante volte sono anche necessari devi saperlo scegliere e la responsabilità della scelta e dei vertici e anche alla fine non di quella ditta in particolare ma di tutta la catena è comunque anche del ministero dell'infrastruttura e se poi e finisco c'è una questione di manutenzione giusta è vero che non è stata fatta prima però è vero anche che le frecce e tutti questi andavano un po' più in orario è così c'è stata una decadenza di questo e se la manutenzione è necessaria tu hai ancora la responsabilità di organizzare le cose in modo riduci il numero dei treni sposti le stazioni però non può appesare sulle persone come se tu se noi dovessimo scegliere tra manutenzione e disagio per forza e tra l'altro sarà fino a 2026 perché quello è pieno questo governo ha un po' il problema dei treni a cominciare dal famoso freccialollo quello che fermate la richiesta per il ministro Lollo Brigitte però hanno un po' il karma del treno è un po' il loro problema Mario c'è un momento in cui se noi guardiamo c'è un ritardo costante in questo momento sui treni però è stato molto sottovalutato è una cosa che mi colpisce è che è quasi stato evitato come problema si è parlato d'altro però adesso stanno emergendo la sanità in modo esplosivo e le infrastrutture ai treni che invece sembrava dovessero essere quando Salvini si è preso il ministero una cosa per cui noi qui faremo vedere che siamo efficienti e invece adesso gli stanno uscendo queste cose tra l'altro se ci pensiamo è anche frutto di una cosa che c'è una sensibilità ambientale diversa per cui si spinge a dire utilizziamo meno la macchina andiamo sui treni però oggi hai la sensazione che il treno invece sia problematico per cui questa è una cosa fondamentale questa qui da risolvere anche anche questo traffico anche dei treni merci è un problema enorme tutto un sovraccarico leggevo oggi in tutti questi pezzi non solo oggi in questi giorni tutti questi pezzi che sono stati fatti da esperti sulla necessità naturalmente di fargli questi lavori dopodiché ecco è ritornata la foto del chiodo ma quanti chiodi ci sono ma poi perché è stato messo un chiodo uno va lì e mette un chiodo questo è rimasto inespresso per chiudere il capitolo Salvini in coda la tua parola chiodo oggi è successa una cosa politicamente rilevante credo Antonio Tajani leader di uno dei tre partiti del governo diciamo prima con Vendola va a portare presenta meglio una proposta di legge che Iussi Tagli viene chiamata per cui dopo dieci anni che tu vai a scuola con profitto puoi chiedere alla cittadinanza quindi se cominci in prima elementare nel secondo anno del liceo quindi a 16 anni puoi già chiederla e a Puntida i giovani di Salvini reagiscono così rivediamo le immagini siamo al compagno Tajani questo francamente nella nostra vita non pensavamo il monario Tajani Tajani scafista la loro corrente però ha chiesto scusa Salvini ha detto erano quattro scemi però però insomma erano un po' più di questo però erano sempre della lega ecco ma che dire che dire questo però invece ci riporta una questione di scontro interno al centro-destra la maggioranza molto forte su tanti dossier e su questo anche Fratelli d'Italia insomma non è contento che Tajani abbia riportato questo argomento l'argomento della cittadinanza per di più in concomitanza con un referendum anche sulla cittadinanza proprio una raccolta di firme da parte dell'opposizione quindi è una giornata questo segnala ulteriormente una tensione e un guaio un altro guaio per Giorgia Meloni di gestione ce ne sono tanti oggi c'erano quasi tutti a guardare la rete le agenzie le dichiarazioni perché c'è l'autonomia e poi c'è la manovra con Giorgetti che ha detto delle tasse e gli extra profitti e le banche su qualsiasi cosa c'è una posizione di Salvini una di Tajani una di Fratelli d'Italia e quindi insomma questo è non rompono mai ma oppure oppure quindi facciamo alta politica diciamo che se l'opposizione secondo me dovrebbe votare subito dire siamo disponibili a votare la legge di Tajani perché questo avrebbe un effetto del flagrante la linea Lecchioli Lecchioli propone di fare il campo largo con Tajani e ricordiamoci questa legge della scuola che sarebbe applicata a chi è nato in Italia ma anche a chi non è nato in Italia ma è arrivato prima del primo anno nei primi cinque anni di vita farebbe una cosa ha due cose interessanti la proposta di Tajani la prima che crea un automatismo tu adesso se non sei nato in Italia ma hai vissuto qui hai fatto tutte le scuole qui quello che diceva prima Vecchioni arrivi a 18 anni devi fare la richiesta e poi ci vuole il tempo dopo la richiesta e devi averlo fatto tutto continuativamente se sei stato fuori per sei mesi non ce la fai invece qui a 16 anni tu in automatico quando hai finito la scuola dell'obbligo tu sei cittadino italiano che è una cosa secondo me bellissima questo automatismo perché poi hai legato anche i tuoi risultati scolastici e poi lo fai due anni prima lo sai che ci sono per esempio tantissimi ragazzi e ragazzi meritevoli per esempio nello sport che però non possono gareggiare in Italia a fare le competizioni internazionali perché a 16 anni è un anno cruciale per incominciare a fare lo sport professionistico l'agonismo quello vero e invece devi aspettare i 18 e poi i 19 anni per poter cominciare per cui questa proposta secondo me è ben studiata e farebbe bene l'opposizione a dire ok se la mettete a voto noi la votiamo ma è la storia delle ragazze della Pallavolo che hanno vinto e ognuna di loro aveva una storia legata proprio a questo ai 18 anni e così ma io credo che sia molto importante perché è una linea rossa e che costringe anche tutti a mettersi di qua o di là cioè o italiani scafista oppure giustamente ragazzi che studiano e che vivono qui e che hanno il diritto di essere italiani io posso dire una cosa quei ragazzi avrebbero bisogno di studiare un po' perché scafista dire scafista a uno che dice i bambini che sono nati qui sono cresciuti qui ma dov'è lo scafismo nel senso sì diciamo andrebbe andrebbe ridiscusso anche lo just italia per alcuni cittadini italiani bene e adesso prima di iniziare la mia rubrica preferita che è promossa e bocciati servono rinforzi quindi chiamerei un grande ritorno da noi una bravissima cantante Margherita Carducci in arte dito nella piaga ciao ciao Margherita ciao Massimo come stai? bentornata grazie ciao a tutti a comoda dunque a scanso di gaffe abbiamo già parlato l'altra volta il cognome Carducci non è casuale che vuol dire? è di mio nonno cioè Giosuè era un parente questo è un grande dubbio della mia famiglia mia nonna che però non ha questo cognome sostiene di sì quindi si è un po' appropriata questa leggenda che non sappiamo come nuova come pronipote di Giosuè Carducci senti ora cominciamo lanciamo io chiedo scusa chiamo più una grande cantante lanciamo la sigla più brutta del mondo prego lo devo chiedere anche a te Margherita hai mai sentito una cosa più brutta di questo sinceramente per me non è brutta no allora è simpatica dai si dice come si dice sei simpatico com'è com'era simpatica simpatica bene allora Alessandro il primo promosso e bocciati è tuo è una notizia di oggi ci ho aperto la trasmissione Giorgia Meloni ha definito di fatto infami alcuni membri del suo partito che hanno fatto arrivare ai giornali i contenuti della chat interna di Fratelli d'Italia e ha detto io alla fine mollerò per questo perché fare sta vita pare di sentirla fare sta vita per eleggere sta gente anche no ma è lei che lo dice ecco che effetto ti fa si sta un po' disamorando dei suoi no io questa volta mi sa che la promuovo ma prima di promuoverla dimmi no arrivo subito al dubbio perché insomma in effetti questo viene da una chat interna è uscito proprio tutto quanto e in effetti non è che lei ha un'opposizione interna quindi qualcuno che veramente vuole farle danno quindi è veramente una cosa evidentemente di qualcuno che cerca un po' di visibilità sui giornali come dice lei e le fa un danno perché queste chat questo pezzo che ha citato in Giacomo Salvini su un fatto quotidiano e lei fa anche i nomi in modo diretto dei due dei due nomi possibili per il giudice della corte costituzionale è un blitz che loro vogliono fare di eleggerlo l'otto di ottobre e questa cosa vanifica tutta l'operazione o comunque la mette un po' a rischio rischia di bruciare i nomi ha fatto arrabbiare l'ishline eccetera quindi un po' di ragione ce l'ha e io me la immagino lei che già deve sopportare i ministri Salvini il chiodo i cori di italiani ma scusa cose e poi uno interno nella chat interna dove dovrebbero essere contenti di starci il rapporto la leader col gruppo parlamentare questo lo può anche dire adesso mi taccio altrimenti esce anche questa frase ed è uscita è uscita scusa ma bocciata perché nella chat chi è che ce li ha messi ce li ha messi lei gli ha scelti lei e li ha messi lei ecco questo è il tema dei temi Mario bisognerebbe vedere chi è l'amministratore della chat chi è l'amministratore della chat chi non trova la talpa però io la promuovo comunque è evidente che le chat sono ormai una devastazione la decadenza dell'occidente ma forse di questa stagione del mondo sarà segnata dalle chat io sì il mio pensiero va alla chat dei genitori su cui peraltro in passato Mario Calabesi mi ha raccontato degli aneddoti riguardo le sue figlie quando erano piccole straordinarie la psicologia dei genitori delle scuole è una delle cose più spaventose che ci sia quindi anche tu potresti aver scritto io mollerò questo per la chat dei genitori capiamo la meloni però ha anche ragione chi li ha messi di chi è l'amministratore della chat vabbè quelli sono i gruppi parlamentari e sono tutti quanti insomma poi c'era anche la classe dirigente quello è il tema però che diciamo ogni giorno io ero limitata a una promozione su questo specifico episodio poi è chiaro che il tema del gruppo dirigente lo trattiamo ampiamente ogni volta quindi diciamo il gruppo dirigente lo bocciamo lei invece in questo caso in questo caso c'è una io si può capire ecco e la promoviamo poi con quella faccia diciamo parla da solo allora Giovanna allora con te vorrei dare voce al disperato appello di un perseguitato che è il professor Bassetti un genitore il famoso è un genitore un genitore da chat diciamo perché diciamo così infettivologo genovese molto conosciuto fin dai tempi del covid e sui suoi social ha lanciato questo disperato grido di dolore sentiamo sono appena stato ammonito dalla polizia municipale di Genova che è venuta a suonarmi la porta naturalmente sollecitata da qualcuno dicendomi che la musica in casa mia era troppo elevata ricordo che stavo festeggiando il compleanno di mio figlio di 16 anni avevamo la musica veramente leggerissima senza che desse fastidio a nessuno ma la domanda che mi faccio da cittadino di questa città il cittadino italiano è ma lo stesso tipo di trattamento avverrebbe se quello che ho fatto io a casa mia nel mio quartiere fosse avvenuto nei vicoli della città di Genova cioè se qualcuno avesse fatto musica più alta in via del campo in via pre o in altre zone della città la sensazione è che qua si sa essere deboli coi forti ma molto forti coi deboli ecco in sostanza si è assegnato la patente di debole la gente se uno vive in un quartiere residenziale c'è un pregiudizio persino da parte dei vigili una forma di invidia sociale sembrerebbe questo il meccanismo che denuncia Bassetti e questa è la cosa su cui discutere tu hai girato il mondo abitualmente e anche via del campo con D'Andrei perché tutti conosciamo via del campo con D'Andrei quindi c'è la musica le forti dell'olio di solito fanno i prepotenti con i ricchi con i famosi difficile e invece fanno i buoni difficile no no però effettivamente c'è invece però che sono parte delle battute perché poi Bassetti da voi c'è un pensiero che esiste quelli che dicono io se vado sull'autobus mi chiedono il biglietto siete teneri con i poveracci con i senza tetto siete super teneri invece con i ricchi e i potenti siete durissimi questo qui nella fattispecie i vigili hanno risposto molto correttamente dicendo la musica non era bassa c'è una casa di cura lì vicino e noi era talmente poco bassa che noi citofonavamo e non si sentiva il citofono e poi a che ora era? 11 e mezza mi pare no non era ancora tardissimo diciamo che la differenza sono i vicini di casa che probabilmente nei vicoli ci sono dei vicini di casa che sono più simpatici e non chiamano i vigili alle 11 e mezza alle 11 di sera però è anche vero che i vicini è andata male a dei vicini che non sono simpatici avrà dei vicini come lui medici che si svegliano perché alle 6 devono già operare e la notte devono dormire detto questo chi gliel'ha fatto fare di fare il video e questo ma perché ma lascia stare hai preso la multa pazienza se notate c'è questa modalità Chiara Ferragni il video dell'anno scorso in tuta cioè quando devi fare una cosa così un po' sofferta ti vesti in un modo con la barba un po' lunga nel suo caso forse sperava che vedendolo così un po' da poveraccio i vigili la prossima volta usano esatto lo promuove lo bocci allora bocciati tutti proprio ma bocciato anche anche Bassetti Junior che fa la festa dei 16 anni con suo papà con i suoi nonni e con i suoi zii ma che ne sai se c'erano anche i nonni i nonni erano con Salvini ha ragione io quando ha ragione Giovanna ha ragione ma Vile sei d'accordo? guarda dipende come ami passare il tempo la famiglia per alcune persone è molto importante tu in casa tieni una musica alta? sì molto alta tu è brava ma brava brava dipende se hai un vicino dei vicini che per il momento hanno tollerato hanno tollerato però sono d'accordo che dipende chi ti trovi accanto la casa di cura effettivamente forse non è proprio il vicinato migliore se vuoi tenere la musica alta dipende poi anche che musica naturalmente ma Giovanna dipende anche che musica lì non abbiamo saputo non abbiamo saputo immagino che non fosse Bach comunque senti Mario c'è un altro famoso che si sente perseguitato questa settimana ed è lui se possiamo vederlo riconoscete un volto ebriatore di comparsa direttamente la notizia dopo che il crazy pizza è stato multato per le fioriere all'esterno del locale se l'è presa col comune dicendo la camorra l'andrangheta la spazzatura vanno bene i miei fiori cosa ne pensate? no ma che c'è sempre qualcosa di peggio per qualunque cosa e quindi io penso che tutti i famosi che vengono multati a cui succede qualcosa dovrebbero avere una regola aurea stare zitti perché altrimenti hai proprio l'idea che come mi hanno toccato hanno toccato il mio privilegio è una roba odiosa se tu vedi il bene al trismo è una roba odiosa ma sì ma che cosa dici ah ma allora c'è la camorra probabilmente hai messo le fioriere dove le fioriere non dovevano stare i fiori sono belli però pagavi il permesso di mettere le fioriere tutto qua e poi quanto sarà stata la multa francamente è un problema per l'obbligatore tre pizze se le pagate no e allora la sua perdere più a 200 euro mi pare appunto tre pizze se le pagate comunque non era per i promossi e bocciati era così era un'aggiunta allora tocca sempre a te Mario cioè tocca a te adesso parliamo del presidente del senato questo qua cos'era l'antipasto questa è un antipasto la pizza è un antipasto mi conosci bene carissimo allora Ignazio Larussa ha deciso di aprire il senato agli animali domestici non a tutti a quelli dei senatori ecco mi verrebbe di dire tu hai girato parecchio hai fatto il corriso parlamentare molto hai conosciuto bene le stanze del senato dove andranno i cani a fare la pipì questa qua la trovo una cosa un'altra cosa come il post sui nonni cioè per avere un po' di consenso siccome sa che tutti gli italiani amano gli animali domestici come Trump che ha giocato sugli animali domestici che gli immigrati si mangerebbero i cani e i gatti di Springfield in Ohio ma perché dobbiamo portare i cani e i gatti al senato ma perché un posto tutto pieno di cose antiche pensa agli arazzi i tappeti i mobili antichi i cani e i gatti che iniziano a graffiare a mangiarsi ma perché ma lasciateli a casa ma poi gli esami vedono Alessandra tutti i luoghi comuni dove ci saranno i senatori radical chic che si porteranno il Chihuahua e invece quelli di destra il Doberman ma ti diranno sai dimmi che cane hai e ti dirò che senator il cane di destra e di sinistra come una volta c'era il boxer lo slip di destra e di sinistra e si diranno pastore tedesco di destra lo so il golden record tangenti pagate in crocchetta cioè può succedere di tutto sinceramente anche quello è un luogo di lavoro è un luogo di lavoro anche impegnativo di dossier da studiare di cose di accordi di vita parlamentare di persone da ricevere da incontrare insomma mi sembra anche una cosa sentite quel titolo ORAFD punta sugli animali è un titolo un po' no così suona un po' strano ha detto che non potranno entrare in aula però e quindi in aula e alla buvette e tra l'altro e chi li tiene mentre il senatore va a votare i dog sitter c'è il portaborse ci sarà il portacani ah giusto quindi è democrata a posti di lavoro esatto questo è il risultato c'è un risultato positivo io spero sempre per Inazio Inazio il presidente Inazio allora Margherita veniamo a te allora qui usciamo completamente dalla politica perché questa settimana abbiamo scoperto ormai tutto è dissing ormai è dissing due persone che discutono è dissing questa settimana c'è il dissing dei nuotatori cosa è successo c'è Conn vincitore delle ultime un'impiede in grande nuotatore di dorso ha non so se si dice dissato si dirà così è corretto dissato si dice ha litigato non si può dire ha discusso ha detto in un'intervista ha detto Federica Pellegrini per me non rappresenta niente la Pellegrini non le ha risposto ha fatto rispondere il marito Matteo Giunta che ha detto di Ceccon non vale nulla quindi lei non rappresenta niente l'altro non vale nulla ecco ma è così difficile però dire bravo a un collega fortunatamente loro non hanno fatto questa cosa mettendo in scena una rappata però però sì è difficile a volte c'è l'orgoglio di mezzo quindi è è difficile quando secondo me questa cosa può minare il tuo orgoglio non penso però sia il caso suo a mio avviso credo che questa cosa riguardi le sue motivazioni personali onestamente detto ciò la Pellegrini è una delle più grandi atlete della storia italiana quindi secondo me non è giusto pensare che non possa rappresentare nulla per te come per me dire Beyoncé non può rappresentare nulla però io l'ho visto quasi più come un come si dice il dispiacere di una persona che è rimasta delusa che avrebbe voluto infatti credo sia legato forse a un qualcosa boh magari non si sono mai presi non lo so magari lui ha cercato in lei un punto di riferimento che non ha trovato lo promuovi o lo bocci si può rimandare? tu cerco non si può no ora io ci vedo mi dispiace perché secondo me è uscito male gli è uscita male questa cosa perché non credo veramente che lui pensi che lei non rappresenti nulla per il mondo del però lo bocci per questa cosa lo bocci beh si è espresso male effettivamente forse si lo boccerei lo bocciamo qualcuno altro ha un mal in cuore sono onesta è onesta nessuno altro io non l'ho proprio capito cioè non capisco come gli è venuta fuori beh non è che è una sua dice sai siamo in competizione nello stesso momento mi toglie luce lei si è ritirata ha smesso fa altro è un pezzo di storia io la vedo così cioè lui si aspettava che la più grande campionessa italiana di tutti i tempi cioè il simbolo del nuoto e dicesse beh l'italiano vince la medalla dell'olimpiadi bravo il silenzio l'ha evidentemente infastidito poi magari è legato a dinamica all'interno della nazionale che noi non conosciamo non lo so comunque è una frase forte quindi se ha detto queste parole ci saranno state le motivazioni dietro però sai il fatto che è una grandissima atleta e quindi forse è una frase un po' troppo forte però per adesso quindi decisione definitiva bocciata si è messo in crisi e lo so ma dai forza vabbè dai lasciamo bocciata non voglio rimangermi le parole poi posso dirti noi non bocciamo mai le persone bocciamo sempre i comportamenti delle persone che sarebbe un modo giusto di farlo anche nella vita non giudicare mai le persone ma giudicare i comportamenti la stessa persona può avere comportamenti diversi dopo questa mia spatafiata possiamo andare tranquillamente un attimo come si dice a bere un bicchiere d'acqua perché c'è un piccolo cambio di scena salutiamo e ringraziamo Alessandra e Giovanna che sono state con noi rimangono Margherita e Mario ci stanno per raggiungere Jacopo Veneziani e Barbara Ronchi ma noi restate lì perché dopo la pubblicità comincia la seconda parte di In Altre Parole restate lì e comincia il secondo tempo di In Altre Parole con la parola Lividi entra Barbara Ronchi bentornata Barbara ciao e con la parola a due Diego De Silva eccolo qua benvenuto scontati Diego eccoci qua mettetevi comodi perché sarà un blocco davvero molto 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 ricco che non può che cominciare con il nostro adorato Jacopo Veneziani con la parola abbraccio buonasera buonasera Massimo buonasera a tutti sì come dicevi tu il gesto della settimana che mi ha colpito di più è stato questo il ritorno della principessa Kate Middleton agli impegni ufficiali che come prima cosa abbraccia Liz questa fotografa sedicenne malata di cancro ed è stato un gesto carico di significato per la situazione che le accomuna purtroppo che mi ha spinto a cercare altri abbracci anche nel mondo dell'arte e devo dire Massimo che ne ho trovati un bel po' partirei da questa natività mistica di Sandro Botticelli che pensate è l'unico dipinto firmato dal pittore ovviamente rappresenta la nascita di Gesù e per celebrare l'evento se ci fate caso nella parte inferiore del quadro ci sono tre coppie che si abbracciano in ogni coppia riconosciamo un angelo lo capiamo perché ci sono le ali e un personaggio che ricorda qualcuno guardate bene tunica rossa corona in testa a chi assomigliano queste figure secondo voi rosso qui qualcuno ha già indovinato l'abito la tunica rossa la corona ti do un indizio Dante Alighieri esatto infatti la corona è di alloro cioè non rappresentano lui in persona ma i letterati che vengono abbracciati dagli angeli in quanto figure virtuose simbolo del bene questi abbracci simboleggiano la gioia per la nascita di Cristo che libera dal male libera dal peccato e in effetti se ci fate caso lì intorno ci sono dei piccoli diavoletti che scappano terrorizzati vegliocerchiati che si infilano nelle crepe del terreno per tornare negli inferi veramente un quadro da studiare perché è ricchissimo di simbologie di tutt'altro genere invece è l'abbraccio dipinto da John Everett mille eccolo qua molto romantico così a prima vista sembra quasi un semplice gesto d'affetto tra due innamorati ma in realtà c'è molto di più il protagonista della tela è un ugonotto cioè un protestante che abbraccia la sua dama cattolica e se ci fate caso lei nell'abbraccio cerca di mettergli una fascia bianca fascia che simboleggia l'adesione al cattolicesimo ora lui cosa fa però con la mano destra se la tira via perché non vuole rinunciare ai suoi ideali cosa si nasconda dietro a questo dipinto un po' enigmatico ce lo dice uno dei titoli attribuiti al quadro Il giorno di San Bartolomeo una giornata drammatica 24 agosto 1572 50.000 ugonotti in Francia vengono massacrati dai cattolici ecco perché lei abbraccia lui disperata perché sa che potrebbe perderlo sta cercando di salvargli la vita e questo Massimo credo sia un quadro di un'attualità sconcertante perché rappresenta il massacro di diverse religioni sullo stesso territorio davvero potremmo quasi sostituire il protestante la cattolica con un ebreo e una e una musulmana purtroppo la storia si ripete ma a volte non ci insegna nulla per tirarci invece su il morale passerei invece alla dolcezza dell'abbraccio di amore e psiche dipinto da William Bougot nell'Ottocento rappresenta una delle storie d'amore più belle di sempre colta però nella sua innocenza perché i due protagonisti sono ancora bambini quindi lontani dalla tragedia che li colpirà l'autore del quadro William Bougot raffigurava spesso dei soggetti classici e le sue opere pensa Massimo piacevano talmente tanto che intanto lui diventò ricchissimo ha venduto tantissimo in vita ma poi si guadagnò il soprannome di pittore des boîtes de chocolat cioè delle scatole di cioccolatini perché i suoi quadri venivano riprodotti sulle scatole erano considerati un po' sdolcinati quindi sembrava opportuno metterli lì tra l'altro pure mia nonna Lina ne aveva una scatola con un quadro di Bougot ci metteva le bollette da pagare quindi un po' meno romantico e a proposito di cioccolato che come sai bene Massimo è afrodisiaco e ora vi mostrerei un quadro erotico il sonno di Gustave Courbet rappresenta due lesbiche nell'atto di abbracciarsi dopo un rapporto sessuale si può dire sessuale Massimo quest'ora perché sono un po' timido certe cose solo dopo le 22 e 30 mi autorizzi e questo dipinto pensate fu talmente considerato scandaloso che per moltissimi anni non venne mai esposto in pubblico è stato realizzato nel 1866 e sapete quando è stata la prima volta che è stato mostrato in una esposizione provate a indovinare 1866 e poi per moltissimo tempo se ne sono perse le tracce ma quanto tempo secondo voi provate a sparare una cifra una cosa 50 anni molto di più 120 120 anni fino alla prima volta perché il primo mercante parigino che lo aveva esposto in pubblico alla fine dell'800 fu vittima di una indagine di polizia quindi da lì tutti ebbero ebbero paura e bisogna aspettare fino agli anni 80 del 900 1988 per vedere questo dipinto riapparire in pubblico in una retrospettiva sul pittore a Brooklyn e questo mi sembra un vero scandalo non tanto il soggetto ma il fatto che sia stato censurato è l'origine du monde ah l'origine du monde altro quadro qua non c'è un abbraccio diciamo che è un soggetto isolato però era tenuta nascosta da Lacan il proprietario dell'origine du monde dietro una tendina perché Courbet usava spesso dipingere diciamo soggetti scabrosi possiamo dire per la morale dell'epoca comunque per tornare al suo sonno il sonno ha dato coraggio ad altri artisti che hanno iniziato a rappresentare tutto un filone di amore lesbico di amore saffico come ad esempio Toulouse-Lautrec guardate qua questa sua tela non rappresenta due giovanotti ma due giovinette probabilmente due prostitute che dopo essersi vendute a uno sconosciuto si abbracciano per vivere il vero amore siamo partiti dall'abbraccio materno di Kate Middleton finirei con un altro abbraccio materno quello della pittrice Elisabeth Vigée Lebrun con la sua unica figlia Jeanne Vigée Lebrun era l'artista preferita di Maria Antonietta poi però scoppia la rivoluzione lei deve rinunciare ai ritratti di corte che erano ben retribuiti e si concentra su soggetti intimi soprattutto sulla sua bambina con la quale si ritrae spesso abbracciata forse perché come diceva Alda Merini ci si abbraccia per ritrovarsi interi bravissimo Jacopo citazione che rimane dal mito di Aristofano è un momento bello grazie grazie Jacopo e ora veramente già l'abbiamo cominciato a fare con Jacopo intanto risaluto Diego e Barbara e adesso è il momento di goderci questa parola di Mario Carabresi la parola bosco che viene dal titolo del suo libro Il tempo del bosco edito da Mondadori e comincia da una studentessa da una cosa proprio invece totalmente opposta alla serenità del bosco il tempo del bosco sulla copertina ahimè c'è una stazione col tabellone della gente che aspetta i treni voleva essere un libro che parlava di di uscire dalle ansie ma invece vista la cronaca di questi giorni sembra il tempo del chiodo più che il tempo del bosco per citare ero lì io ero lì quel giorno era a Roma in pieno come Arisandria Sardone 5 ore di attesa e poi 5 ore bene e non ti sei ancora ma tanto per cominciare 5 ore poi la cosa è continuata per tutto per tutto il giorno dicevamo questa studentessa che ti si avvicina alla fine di un convegno e ti chiede un convegno sull'importanza del tempo tra l'altro e ti chiede come faccio a tenere tutto insieme quando la sticella si alza sempre di più sì il suo racconto era voleva che io gli consigliassi qualcosa ahimè su come si fa oggi dice troppe domande abbiamo continuamente ci viene richiesto sempre di più c'è un'ansia da prestazione e lei si sentiva paralizzata tanto che mentre mi parlava si è messa a piangere io le ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa è stata guarda che la vita non sono i 100 metri la vita è una maratona ci sono dei momenti in cui vai più veloce dei momenti piano degli inciampi delle crisi e poi ricominci riparti non misurarla tutti i giorni tu devi avere un'idea dove vuoi arrivare che tipo di medico vuoi essere ma non prenderla con quest'ansia poi però questa cosa mi è rimasta dentro perché il tema dell'ansia è un tema diffusissimo oggi tra i giovani ma tra tutti nella società e allora ho cominciato a fare come faccio con i libri un viaggio e sono andato a fare un viaggio per cercare persone che mi parlassero di un modo diverso di interpretare il tempo cercare di trovare un tempo del bosco che però deve essere un tempo che tutti noi abbiamo dentro ogni giorno però poi sono arrivato anche in un bosco vero ecco e lì hai mandato questa è una cosa che mi ha curiosità tantissimo hai mandato una mail a un uomo di 105 anni già questo è il libro diciamo tu pensi a cosa ho sentito io allora c'è questo bosco io cercavo il bosco più incontaminato d'Italia si chiama Sassofratino sta nelle foreste casentinesi proprio sul confine tra la Toscana e la Romagna ed è grande come 106 campi da calcio ed è dal 1959 una riserva integrale totale cioè non ci si può entrare lì l'uomo non c'è il bosco è lasciato lo vigilano i carabinieri forestali ed è lasciato completamente non c'è la mano dell'uomo io ho chiesto ai carabinieri forestali di raccontarmi la storia chi ha deciso che nel 1959 dovesse diventare una riserva integrale e mi hanno detto un uomo Fabio Clauser e mi raccontano la sua storia era andato lì perché doveva tagliarlo questo bosco ecco questo Fabio Clauser doveva tagliarlo questo bosco ma è arrivato dentro e quando doveva incominciare a tagliarlo ha deciso che invece ne avrebbe fatto una riserva integrale e incominciò una battaglia parlamentare portò fino al Parlamento per fare questa legge la prima volta in Italia e io ho detto ah 59 ma quest'uomo ormai ha più di 100 anni ma qualcuno di voi lo ha conosciuto e hanno detto no no guarda gli puoi mandare una mail e ti risponderà io ho detto una mail a un signore di 105 anni mi ha dato l'indirizzo io ho spedito questa mail due ore dopo mi ha risposto e mi ha detto oh che piacere mi venga a trovare mi venga a trovare io sono andato a trovarlo ho trovato un uomo strepitoso che mi ha raccontato la cosa più bella lui mi ha detto io sono entrato ho visto degli alberi che avevano 300 400 400 500 500 anni di vita e colpito dalla meraviglia di questo bosco ho pensato dobbiamo preservarlo per il futuro non possiamo tagliarlo e ripiantarlo così avrebbe dovuto fare perché faremo un disastro e tu dici sono di due alberi che sono prima della scoperta dell'America lui mi ha fatto vedere mi ha raccontato di un albero che io sono andato a vedere che avrebbe esatta avrebbe se fosse ancora in vita l'età di Cristoforo Colombo allora per dirti la forza lui ci sta avvicinando come si fa arrivare a 105 anni lui mi ha detto la genetica però è stata la passione lui ha vissuto in una casa vicino al bosco fino a 102 anni andando a tagliare la legna indipendente lui e sua moglie però ti voglio dire una cosa della simpatia mi ha detto quando esci dal bosco poi lì vicino puoi andare a mangiare in un agriturismo dove cucinano benissimo tu sei la mia golosità e io gli ho detto che cosa devo mangiare professor Clauser e lui mi ha detto ma io sono andato sabato scorso e ero solo sempre indeciso tra due primi tra le tagliatelle col ragù di cinghiale e i passatelli quindi uno toscano e uno romagnolo e ti leggeri proprio che a 105 anni che cosa ha mangiato lei e lui mi ha detto li ho presi tutti e due perché a 105 anni non dici magari la prossima volta quindi il bosco fa bene anche all'umore anche alla salute che storia straordinaria Sì ma tra l'altro lo sai cosa è successo oggi non so se abbiamo una coppia qua del libro forse non ce l'abbiamo ma però perché vedendo i titoli del tuo libro che sono poi tutti titoli di sentimenti di emozioni cioè ogni storia è abbinata a un emozione a un sentimento oggi giovanotti che ovviamente ha percevuto il libro ha cominciato a sfogliarlo e poi sui social ha scritto su Instagram ma caro Mario Calabresi ci potrei fare un album con i titoli dei tuoi capitoli bellissimo grazie Lorenzo complimenti poi potremmo avere un libro musicale cioè un libro che verrà trasformato in un disco forse mai successo magari sarebbe bellissimo certo forse la copertina effettivamente è molto bella devo dire la verità però hai ragione è un quadro questa è una stazione di Londra però è la Waterloo Station a Londra c'è l'esperto che sta hai uno sguardo Jacopo da intenditore si conosce quel quadro stavo cercando di capire l'artista un artista italiano si chiama Andrea Sbra Perego e dipinge stazioni a lui piacciono le stazioni e a me piaceva perché volevo dire che il tempo del bosco tu lo devi avere anche quando sei davanti a un tabellone con i treni in ritardo cioè in mezzo alla gente ognuno di noi dovrebbe trovare dentro di sé un momento durante la giornata in cui vive un tempo in cui pensa non alle urgenze ma alle importanze alle cose che gli interessano e così ma poi come sempre Mario attraverso nei suoi libri le cose che pensa e che sta dicendo le racconta cioè non fa cose astratte racconta storie racconta è l'unica cosa che so fare no non è vero ne si fa le tante altre ma questa sicuramente ti viene ti viene particolarmente bene resta qui perché il tempo del bosco ci porta a parlare di un'altra storia terribile eppure lasciamelo dire Barbara piena di speranza so che si può sembrare esagerata detta così ora siamo nel 2008 nella periferia sud ovest di Milano in un appartamento di via dei gigli forse chi è di Milano conosce e qui un ragazzo di 23 anni spara a suo padre uccidendolo ecco Barbara perché? eh perché 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 la famiglia Celeste viveva una situazione in cui c'era un una bomba dentro casa era una situazione in cui questa questa famiglia viveva in ostaggio di questo padre dove dove questo padre Franco Celeste era violento con la madre ma i figli erano vittima di violenza assistita quella che chiamiamo violenza assistita cioè la violenza di coloro che non vengono picchiati ma che sentono che guardano che hanno nelle orecchie e negli occhi tutto quello che i libidi di cui parlavi prima la madre li ha addosso ma loro li hanno negli occhi no? e e questo questo ragazzo Gigi Celeste dopo le denunce anche che la madre aveva fatto ma che poi sai il 2008 era anche un momento diverso non c'era per esempio non c'era neanche la legge sullo stalking era era un momento diverso però le istituzioni non sono state pronte diciamo a prendersi carico di questa di questa famiglia questa famiglia è rimasta sola e quindi questo questo figlio ha liberato questa questa famiglia con con la rabbia che aveva conosciuto e accumulato e gli è arrivato questo vicino della storia è ripetata prima un libro che si titola non sarà sempre così e ora un film un bellissimo film credo che sarà uno dei film dell'anno in Italia diretto da Francesco Costabile con Francesco Gheghi premiato come interprete per la parte di Luigi e tu invece nella parte di Lisa della mamma e quindi vediamo una scena che ci spiega proprio la parola lividi quando chi sta al lavoro ma non è licenziata come non è licenziata e perché sono stanca ma non mi riposano ma che è no no niente 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 fammi vedere che cosa dai ma fammi vedere ma che deve se ce ne è altri dai spogliati no non c'è ma spogliati non c'è spogliati ma fammi vedere è stato lui lascia stare vabbè tranquilla ma non è niente via con me dove? non so io dove dai via con me dove devo andare? mamma vieni con me per favore dai vieni con me ma non ti devi mettere in mezzo da questa scena avete visto la maestria anche della regia devo dire a volte che degli interpreti c'è una tensione e poi è una storia enorme anche ripeto dico di speranza che è terribile doverlo dire ma in realtà c'è c'è questa speranza non so Barbara io poi ti dico lo dico perché io ogni volta Barbara ha interpretato mia madre quindi vederti interpretare una madre decisamente diversa altrettanto martoriata ma in modo diverso mi fa un certo aspetto e mi porta quindi a entrare molto in empatia con te ecco non so come hai fatto ad entrare dentro questo non è stato facile perché io avevo avevo nella testa mille mille domande e avevo anche uno strano pregiudizio forse nel senso che la mia la mia domanda quello che non riuscivo a capire era come si potesse riaccogliere un uomo dentro casa no? quell'uomo lì come si facesse a credere quelle parole e invece mi sono resa conto che intanto è molto più complesso di quello di quello che possiamo pensare di andare fuori è facile perché poi quando sei dentro molto molto e io ho pensato che è vero che tutti da fuori la vedono come una vittima questa donna ma che lei si sentisse invece profondamente colpevole colpevole di aver colpevole del disastro che era questa famiglia cioè di aver dato un padre a questi figli che non era adeguato di avere dei lividi addosso di cui si vergognava e quindi si sentiva colpevole anche gli occhi dei figli la facevano sentire colpevole perché in questa storia c'è un figlio che vuole un padre che lo vuole accanto e quindi forse a volte ti dici che un'altra possibilità è possibile che un'altra vita è possibile che quella famiglia poi Costabile l'ha chiamato famiglia questo film perché è un termine latino che gira la latina sì che indica una proprietà del pater familias sui componenti sui componenti della famiglia e questo è quello che loro vivevano quindi nel momento in cui ho capito che questa donna doveva fare pace con questo senso di colpevolezza è un po' anche per il lavoro che facciamo che è quello di forzare anche un po' il nostro cuore e metterci nei panni degli altri l'ho capita profondamente e mi ha profondamente commossa è un personaggio femminile straordinario perché non è non c'è nessun cliché date a vedere il film perché lo vedete colpito vorrei approfittarmi mi aggancio anche a questa onda emotiva che hai sollevato per ricordare magari una notizia che non è finita tanto sui telegiornali questa settimana un giornale spagnolo il paese ha pubblicato una lettera e in Spagna non si sta parlando d'altra poi non si sa perché certe notizie universali si fermano al confine del paese se fosse successo in Italia ne parleremmo per ore questa ragazza si chiama Conci Granero e nel 2020 è stata violentata e ha raccontato in questa lettera con un linguaggio e una sincerità trepito straordinario il suo percorso giudiziario vi leggo solo queste parole ti fanno credere che la cosa migliore è raccontare tutto che è la sola via etica per proteggere le altre donne da questo crimine ma appena tu lo fai ti abbandonano a te stessa il sistema scrive questa ragazza ti lascia nuda davanti ai lupi feroci che ti fanno sentire ancora più terrorizzata senza offrirti nessun tipo di sostegno devi badare a te stessa da sola e difenderti anche da tutti coloro che dalla loro posizione privilegiata si freggiano dell'appellativo di tutori della giustizia abbiamo qui un grande scrittore Diego avevo letto questa notizia che effetto ti fa conosco una donna che ha subito che per un pelo insomma è scampata ad uno stupro ribellandosi alla fine si è trovata anche lei in una condizione di isolamento talmente forte che mi ha confidato sono stata poi così sola mi sono trovata poi così esposta rispetto alla possibilità di una reiterazione di una violenza da parte di questo qui che oggi non mi sentirei di consigliare addirittura di denunciare quando si arriva a questo punto vuol dire che la sfiducia nell'istituzione la sensazione di debolezza di esposizione di fragilità di una donna rispetto allo stupro e alla violenza tantissime forme di violenza perché c'è un altro aspetto che riguarda poi conosco Francesco Costabile tra l'altro che è codilegno di famiglia ricordiamolo c'è un aspetto che è ancora un po' più complicato cioè la violenza soprattutto quando si svolge all'interno delle mura domestiche ha qualche cosa di intrinsecamente incredibile cioè la persona che la riceve siccome si è avventurata in una appunto in un'avventura che doveva riguardare tutta la vita con la massima fiducia quando si vede investita dall'opposto cioè dal peggio dalla violenza e dal male tende a non crederci e quindi la seconda possibilità che offre è un disperato tentativo di ristabilire una realtà che invece non riconosce come tale è lì che dovrebbe scattare la massima solidarietà dell'istituzione cioè fuori di casa le competenze a partire dalla magistratura dal supporto psicologico e dalle forze dell'ordine dovrebbe essere proprio una rete di solidarietà fortissima che dovrebbe mettere una persona che in questo caso addirittura una famiglia in condizione di sapere che fuori delle mura c'è qualcuno che ti aiuta ecco noi da questo punto di vista siamo molto indietro e dovremmo vergognarci di questo io trovo anche molto importante e molto bello che oggi queste parole vengano dagli uomini sta cambiando c'è proprio stato in questi anni per fortuna un salto di consapevolezza che speriamo ricada poi anche in tutto in tutto il mondo Margherita a me è profondamente colpito c'è la lettera che è il racconto di Barbara onestamente mi ha molto commossa veramente è imbarazzante il fatto che che una ragazza si trovi in difficoltà dopo un momento di grandissima difficoltà dovrebbe finire lì la difficoltà invece è un problema che a volte aumenta nel percorso successivo e non posso immaginare cosa significhi di essere umiliata nel non essere creduta essere umiliata nell'essere anche abbandonata perché è un'umiliazione per me rimanere sola di fronte a alle persone che dovrebbero aiutarti e sola con il proprio dolore è uno scandalo il fatto che effettivamente ci siano delle persone che sconsigliano addirittura di denunciare e che dire c'è tanta strada da fare però dico una cosa bella per chiudere questa pagina cioè il fatto che questo articolo questa lettera abbia suscitato un dibattito enorme in Spagna ma proprio la notizia di cui parlano tutti come ecco se fossero stati la versione spagnola di in altre parole ci avremmo aperto la puntata e questo per dirvi che evidentemente questa cosa sta diventando sta crescendo questa consapevolezza è un film ma anche come quello di Barbara ci aiuterò intanto io ringrazio e consiglio tantissimo di leggere il libro di Mario di immergerci nel bosco insieme a Giovannotti che starà leggendo il libro adesso lo leggeremo anche noi e rimanete lì tutti quanti perché fra un po' abbiamo un'edizione speciale della posta del cuore ma una cosa molto molto particolare abbiamo una sorpresa anche di dito nella piaga abbiamo una buona notte dedicata al 7 ottobre e abbiamo purtroppo anche Saverio Raimondo ma questa cosa avete a quest'ora la tassa da pagare e noi ci vediamo fra un attimo in altre parole restate lì eccoci qua l'ultima parte del programma la più bella come tutte le cose belle cominciano apparentemente male Saverio Raimondo buonasera bene la parte divertente finita adesso basta ridere scherzare no no facciamoci seri perché purtroppo ci sono infiltrazioni allora non ridiamo ci sono infiltrazioni mafiose in questo programma dopo le curve di Milan e Inter sono risultati collusi con l'andrangheta anche gli ultra di questo programma gli ultra ottantenni intendo la signora Maria la signora Maria infatti risulta essere una boss della sacra corona unita e gestisce il traffico internazionale di Mila Cotta signora Maria lei è smascherata è perché mi voleva offrire le miele cotte e lei inoltre come Fedez con gli ultra del Milan a quanto pare anche Massimo Gramellini è in affari poco puliti con gli ultra del toro che tante soddisfazioni le sta dando stando alle intercettazioni infatti Gramellini è il capo ultra dei Granata uno tutto pieno di tatuaggi nome di battaglia pensate il Bepi ebbene Massimo Gramellini e il Bepi stanno pensando di entrare in società per comprare una bocciofila Pinerolo dove truffare gli anziani truccando tutte le partite poi Gramellini viene a fare la morale a noi io no ma Gramellini invece è un appassionato è un appassionato abbiamo scoperto ma se sono qui stasera non è per spuntanare Gramellini come boccia con San Giuliano da Formigli ma per rubare il lavoro a Jacopo Veneziani ebbene ci tenevi tanto a questo lavoro perché ogni sabato sera Jacopo Veneziani ci fa vedere quadri affreschi dipinti ma solo io ho il coraggio di mostrarvi questo mosaico questo arazzo questa plastica rappresentazione dell'Italia contemporanea eccolo qua il tabellone della stazione di Roma Termini l'altro giorno mercoledì 2 ottobre quando sono stati cancellati più di 200 treni e accumulate oltre 4 ore di ritardo sulla rete ferroviaria italiana e veneziani possiamo definire questo pannello impressionista impressione lo fa si anche un po' espressionista perché esprime un certo disagio possiamo dire anche questo è vero anche arte povera povera Italia poveri noi poveri noi possiamo andare avanti all'infinito alla fine chiudo io dando un titolo a questo quadro lo chiamerei l'urlo di munca e quell'urlo sarebbe l'immortacci vostra perché ti viene proprio ti viene ti viene ti viene ma cosa ha mandato in tilt ben due stazioni ferroviarie a Roma e di conseguenza tutta la rete ferroviaria italiana un chiodo secondo il ministro Salvini è stato un chiodo le indagini infatti stanno seguendo la pista anarchica fra i ferramenta questo è e se vi sembra assurdo che un chiodo possa fermare i treni in Italia beh vi ricordo che in Italia un treno è stato fermato anche dal ministro Lollobrigida che voleva scendere a Ciampino insomma c'è di peggio c'è di più assurdo del chiodo e noi pensate quel chiodo ebbene sì ce l'abbiamo qui eccolo le grandi esclusive di in altre parole proprio lui è il chiodo non lo tocchi i gramellini se no si bloccano i trani da qui a Firenze non lo tocchi mi raccomando il chiodo mi ha infatti rivelato ho fatto un'intervista esclusiva mi ha rivelato di aver interrotto tutti i treni perché il ministro Salvini gli aveva promesso di farlo consulente per i grandi cantieri al ministero dei trasporti poi però la Meloni ha stracciato il contratto che lei chiodi al ministero non li vuole vedere solo punti nella disegno e da lì l'attentato dell'altro giorno fatto sta che insomma dopo un simile scandalo Matteo Salvini si dimetterà ma che ma che ha detto che no lui darà la caccia all'operaio che ha sbagliato a mettere il chiodo e quando sarà smascherato verrà punito con una condanna esemplare cioè lo faranno viaggiare a vita sui treni regionali italiani davvero una prova una condanna molto dura io però se fosse il ministro Salvini non me la prenderei con un operaio per giunta proprio ieri un operaio è morto sul lavoro proprio sui binari ecco perché l'errore umano capita pensate per esempio agli elettori che sbagliano a votare certa gente che poi va a fare il ministro senza essere capace per dire no cioè la gente sbaglia la gente sbaglia è inevitabile comunque è grazie a ritardi ferroviari che noi questa sera abbiamo questi ospiti perché sono col cavolo che ci vengono gli ospiti in questo programma loro sono bloccati a Roma da mercoledì e quindi sono qui che aspetta dito nella piaga perché dito nella piaga è in giro sempre in turma si lo so ma tu dovevi andare avevi una data a Milano certo lei sono quattro giorni che sta aspettando il suo treno che è in ritardo di quattro giorni e la si è fermata qui stasera che poi prende a Tiburtina capito è quello dito nella piaga tra l'altro la mia cantante preferita non lo dico per piageria non l'ho mai detta a Massimo Gramellini che è il mio cantante preferito per dire io ho ascoltato il featuring che ha fatto con Elodie e Ornella Vanoni ti voglio il brano è dedicato a me vero? assolutamente sì assolutamente sì è un'esclusiva che vi do tra l'altro Elodie dito nella piaga e Ornella Vanoni alla fine dopo la rottura di Conte con il PD siete voi il campolardo in Italia perché comunque voi tre siete più degli alliati di Elish Line cioè nessuno quindi comunque siete voi il campolardo se vi candidate secondo me vincete beh speriamo dai avete anche già l'inno avete l'inno ti voglio ti voglio mi piace ti voto cioè può funzionare può funzionare e a proposito di politica il presidente del senato Ignazio Larussa ha detto che i tempi sono maturi per introdurre animali domestici in senato e in effetti se può entrare Larussa in senato beh allora ci possono entrare anche cani e gatti a quel punto possono entrare veramente tutti comunque l'idea non è nuova perché già Caligola fece senatore il suo cavallo che poi ricordiamo invece rimase implicato in un'inchiesta l'inchiesta Zoccoli Puliti e da lì la sua carriera finì ma per restare in ambito politico questa settimana è uscito il tanto atteso Franco Bollo commemorativo dedicato a Silvio Berlusconi un vero evento eccolo qui un vero evento dato che è la prima volta che viene dedicato un Franco Bollo a un condannato in via definitiva per frode fiscale quindi è davvero un evento sbrigatevi a acquistarlo prima che vada in prescrizione mi raccomando il Franco Bollo di Berlusconi ovviamente per attaccarlo si va ovviamente leccato sul retro che se ci pensate è la stessa cosa che tante persone facevano a Berlusconi stesso quando era in vita no? leccarlo sul retro era proprio una roba che usava a fare comunque questa settimana è uscito un altro un altro Franco Bollo il Franco Bollo dedicato a Massimo Gramellini eccolo qui straordinario Franco Bollo Franco Bollo questo non l'ho scritto io l'ha scritto alla filatelica nazionale comunque il Franco Bollo è da collezione pensate ha la particolarità che non si lecca dietro ma ci si sputa davanti questa era gratuita lo so mi perdoni Gramellini ma era troppo bella era troppo bella la dovevo fare la dovevo fare la dovevo fare comunque ma come mai è uscito un Franco Bollo dedicato a Massimo Gramellini proprio questa settimana non è uscito no come mai perché questa settimana mercoledì è stato il compleanno di questo metto ragazzo perché faccio io la battuta la festa dei nonni il giorno della festa dei nonni che poi prima erano gli angeli custodi in effetti in effetti è vero pensate che Massimo Gramellini mercoledì che è il nostro compleanno ha fatto le ore piccole è andata a letto dopo le 21 pensate e quando per spegnere le candeline Massimo Gramellini non ci soffia sopra lui gli legge una buonanotte e le candeline si spengono da sole proprio se la sera si scioglie ma noi in questo studio non vogliamo essere da meno anche noi ci teniamo a fargli gli auguri anche noi ci teniamo ecco ci sarà un video di cui Massimo Gramellini di cui Massimo Gramellini non sa nulla no allora perché noi abbiamo deciso in questo studio di farle caro Massimo Gramellini un video di auguri un video di auguri molto speciale Massimo Gramellini non sa nulla totalmente all'oscuro pensi questo video arriva dall'Africa prego dalla regia Barbara mi tengo vicino a te in altre parole auguri Massimo Gramellini Massimo Gramellini this all gets you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday foto che ora finirà passaporto happy birthday to you happy birthday to you allora il video è stato pagato più di 40 dollari è stato assolutamente pagato questo video è stato realizzato in settimana questo è un gruppo di persone che realizzano questi video a comando non sanno assolutamente chi sia Massimo Gramellini è un motivo del loro entusiasmo ma dove li avete trovati? sono solo sapere no no si trovano su internet noi bazzicando nel deep web nel deep web nel deep web ancora auguri a Massimo Gramellini non ha commesso reati in the world in the world grazie è stato un bellissimo pensiero è stato un bellissimo non la bacio solo per me volevo uscirle dalla torta anche ma nel mio caso basterebbe una crostata peraltro quindi comunque oggi non farò la corsa sullo capello allora riprendiamoci riprendiamoci Margherita ti prego allora la tua parola è che succede? mi sono tuffato mi sono tuffato mi sono perso l'attimo stavolta ho perso l'attimo non dovevo ancora riprendermi ti sei perso Tania Cagnotto però cosa? ti sei perso Tania Cagnotto eh lo so il Cagnotto è bello tra Cagnotto il famoso tra Cagnotto va bene allora la tua parola è Flash non solo perché Flash è il titolo del tuo album ma perché perché intanto vediamo questo titolo quell'album vediamolo abbinato a un altro a un altro quadro un quadro di Andy Warhol guardate questa è Elizabeth Taylor secondo l'interpretazione di Andy Warhol Saverio prima ancora di chiederlo a Jacopo lo chiedo a lei vede beh c'è una certa analogia sì il trucco per esempio intorno agli occhi il rossetto c'è qualcosa? sì due icone pop due icone pop abbiamo beh dai è un paragone molto lusinghiero nei miei confronti però grazie non te l'aspettavi neanche te questa sorpresa no allora noi ci siamo detti visto che la settimana scorsa Jacopo ha fatto coppia con Aldo Cazzullo per raccontare la Bibbia attraverso i quadri perché non fare lo stesso con l'attualità con alcune notizie pop abbinato con te e quindi sta dando dell'aldo Cazzullo praticamente prendila come vuoi prendila come vuoi è un complimento quindi direi di partire di salire di questo inedito tandem e di partire da un video il video di Re Carlo di Inghilterra guardiamolo certo li pagano bene i Windsor però certo è un lavoro anche quello durissimo questa era una danza di Samoa di Samoa ecco primo tuo commento flash te lo porti in turn come ballerino ah beh un po' nonno che prova tiktok lui eh anche al settimo whisky secondo me però ma ti dico secondo me può essere un elemento interessante un po' controverso sta là non te lo aspetti forse sarebbe divertente come ballerino il nonno che prova tiktok Jacopo ma sapete che a me questo incontro tra culture ha fatto pensare a Gauguin che anche lui viaggiava ai confini del mondo e mi ha fatto vedere in mente questo dipinto che si chiama Nahaha no atua che significa il giorno degli dei ripeto sull'erio come è? Mahana ma no no atua atua il giorno degli dei il giorno di dio anzi perché vediamo questi uomini donne di di Tahiti che celebrano gli dei alcuni danzano sullo sfondo vedi come ho notato come il re Carlo altri non fanno niente seduti a bordo piscina e poi c'è questa questa statua colossale di una dea al centro che potrebbe essere Camilla Parker-Bowles visto che anche lei è venerata nelle ex colonie britanniche mi sembra spazio ci sta ci sta seconda immagine questa settimana che ha colpito tanti allora questo scatto di Moreno Pesce che è un alpinista atleta paralimpico mostra la scritta apparsa ai piedi delle tre cime di Lavareto vedete turisti tornati a casa una protesta contro il turismo di massa dannoso per l'ambiente fatto però messo in atto deturpando l'ambiente curioso secondo flash di Margherita che ne pensi? ma trovo sia un po' contraddittoria questa espressione di dissenso e forse fossi stata nella persona con il pennello in mano ci avrei pensato due volte ecco secondo me non era forse il modo giusto di esprimere questo dissenso direi di no allora Jack e io quando ho visto la notizia questa settimana ho detto ma chissà cosa ne avrebbe pensato Caspar David Friedrich proprio la prima cosa che ho detto eh sì ma perché lo associamo qualunque cosa pensa un quadro comunque c'è un riflesso no è ovvio no perché Friedrich è il famoso autore del viandante sul mare di nebbia che forse è uno dei di un film in camera lo so io come l'originale come poster e Friedrich andava sempre in montagna diceva che ritrovarsi solo di fronte all'immensità della natura è terapeutico perché aiuta a ridimensionare i propri problemi certo perché all'epoca lui era il solo turista poi però l'ha avuto gli altri aspettava orde di turisti chissà oggi avrebbe fatto un quadro pure lì come forma di protesta come forma di protesta terza e ultimo flash vediamo non vediamo forse vediamo ecco vediamo è questo è il famoso cittadino dica lei sa vero che cos'è questo ti voglio ti voglio ecco le lì Ornella Vanoni lo dì dito nella piaga insieme per questa cover la canzone su di te canzone a me dedicata ti ringrazio ti ringrazio yak questo invece cosa ti ispira beh qui ho subito pensato alle tre grazie è gente tre grazie grazie graziella e dito nella piaga no no sono loro sono loro le tre grazie di William Oxer grande pittore contemporaneo vivo vivo credibile a differenza degli altri tre grazie che rappresentano la bellezza la gioia e la prosperità e allora io dico Margherita tu quale scegli tra queste tre bellezza gioia prosperità beh tutte e tre se si vuole dai all in se devo sceglierne solo una forse la gioia brava che magari attira anche le altre due poi se affronti la vita in modo positivo ormai abbiamo un filosofo un filosofo allora intanto ricordiamo che tu sei comincio adesso a girare l'Italia a proposito sempre che ti muovi in treno no mi muovo in van ecco meglio forse meglio in questo periodo è meglio portati qualche chiodo dietro non si sa mai se vuoi ne ho uno mi scaramazzino allora ricominci il 22 novembre a Livorno poi vai a Torino Bologna Milano e il 7 dicembre chiudi qua a Roma nell'attesa ci sentiamo un assaggio della tua canzone Latitante guardiamo guardiamo bolle blu bolle blu ghiacciate nel frigo sciccherò un po' prima di fare un giro la tv da caldo da schifo prenderai quella sminutica risaluti lo dici scicchi pure così riverò che andrò tutti fruri fruri da Latitante tequila e con tanta la vita che vorrai ai ai che dolore che mi dai ogni volta maledetta che mi chiedi dove vai ai 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 che dolore che mi dai ma la giostra va di fretta e sai che io non scendo mai vivo la vita Latitante tequila e con tantan te vita vita non mi manca niente fammi vivere Latitana latitana tantan tantan tequila e con tantan tantan te vita vita non mi passa non mi passa a me Evviva Evviva Ti emozioni sempre a guardarmi Mi fa strano riguardarmi Tu riesci a guardarmi Mi imbarazzo Io ti giuro stai che non riesco a guardarmi Ebbè ma Tu dici c'è un mio dio Lei si guarda invece purtroppo No 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 Anch'io Anch'io in realtà mi imbarazzo molto noto soli difetti personalmente tu Barbara ti vergogna guardare un'immagine tua se tu vai al cinema a vedere i tuoi film vado al cinema perché vado all'anteprima perché sembra brutto non andare però se potessi non andrei però quando vedi la tua faccia al cinema ti fa impressione è così per tutti adesso mettetevi davvero comodi perché facciamo un esperimento mai fatto in questa tradizione è più comodo di così proviamo purtroppo la presenza di Severo toglie un po' di poesia e di concentrazione perché siamo arrivati Diego al momento della posta del cuore io non so se lo sai ma io da 26 anni tengo un dialogo con i lettori adesso su 7 ma prima su altigianali 26 anni che ho questo dialogo con i lettori infatti sono aumentate le separazioni da quando in esatto esattamente così e ricevo lettere come questa ascoltate di solito quando la persona che amiamo ci lascia soffriamo per la sua durezza per quella sconosciuta crudeltà che ci colpisce tanto più ferocemente quanto più la vediamo uscire da lei quasi fosse posseduta da un'entità estranea che ci fa del male ingiustamente quasi per così dire parlasse con la voce di un altro fosse stato almeno questo tra noi mia moglie invece l'ho perduta senza urti senza male in silenzio nella complicità e nella gentilezza quante volte quando di notte mi cercava ho riconosciuto nelle sue carezze una pena insopportabile di chi vorrebbe e non può più e però non si rassegna e prova ancora e io che me ne accorgevo volevo morire e l'abbracciavo per aiutarla a ingannarmi la verità è che non c'è senso nella fine di un amore come nell'inizio del resto ecco queste parole sono di Fosco ma sono in realtà di Diego De Silva che le ha scritte Fosco il protagonista del tuo ultimo libro una delle specialità di Diego De Silva sono i titoli secondo me il più grande titolista di libri italiano e questo si intitola i titoli di coda di una vita insieme che devo dire un'immagine che lì io l'avrei chiamato molto più banalmente l'anatomia di una separazione perché questo è però cito uno dei miei intellettuali di riferimento cioè Riccardo Cocciante non c'è mai una ragione perché un amore debba finire e quando finisce un amore la ricordo benissimo è così? beh questo è un libro più che sulla separazione diciamo sulla sintassi dell'addio e su quanto sia importante in uno dei momenti più difficili e più significativi della propria vita cioè quello in cui finisce un sogno ci arrendiamo all'evidenza che una grande storia d'amore è finita nel caso di Fosco e Alice addirittura un matrimonio Fosco è uno scrittore Alice è un oncologo in quel momento c'è un dissesto perché l'istituzione torniamo un'altra volta alle istituzioni alle incapacità che hanno poi di occuparsi della vita reale della gente che cosa fanno le istituzioni quando intervengono nel momento della fine di un amore se ne occupano secondo il linguaggio giuridico ed è molto mortificante vedere un amore una storia una vita 20-30 anni ridotti in un linguaggio scadente in pochissime frasi rimasticate mille volte che il diritto utilizza addirittura come se fossero dei prestampati non so fatti e circostanze che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza mentre dietro c'è tutto un mondo una vita in quel momento noi non abbiamo bisogno di un linguaggio così secco così miseramente sintetico in quel momento abbiamo bisogno di letteratura vorremmo essere rappresentati nel dolore che questa cosa significa io prima di fare lo scrittura ho fatto l'avvocato per diversi anni e vi assicuro che in quelle situazioni è creato infatti l'avvocato malinconico l'hai creato malinconico me ne dirai sulla tua esperienza l'altro l'amavo così tanto quella professione che ho cambiato però diciamo ho capito abbastanza quanto mi serviva per scrivere in quei momenti dicevo anche le persone più agguerrite quelle che arrivano alla separazione con la voglia di distruggere il coniuge in quel momento invece soffrono e si sciolgono spesso in lacrime perché è molto frustrante vedersi ridotti a così poco e allora il libro parla di questo perché Fosco essendo uno scrittore ha una forma proprio di idiosincrasia rispetto al linguaggio giuridichese lo sa che se vanno a finire in tribunale la loro storia si svilisce Alice in questo senso essendo un oncologo e quindi avendo un approccio molto più diciamo molto più secco rispetto al male cioè lei come tutti i medici cerca di conoscere il mare nelle sue istensioni e lo affronta con gli strumenti che può perché tu porti la parola a due che nel libro proprio tu scrivi l'amore non è una storia ma due e infatti due è appunto una parola che ci ha portato due persone sono anche due modi diversi di raccontare la fine di quello stesso amore perché alla costa del cuore è arrivata anche un'altra lettera scritta dalla moglie e c'è la legge Barbara Ronchi non ricordo cosa scatenò in me un risentimento così forte da aver bisogno di fargli male colpendolo con una rabbia spropositata chimica caricando ogni parola di tutta la frustrazione che covavo il fatto che conoscessi a tal punto le sue abitudini da poter scommettere sul numero dei passi che gli servivano per andare dallo studio alla cucina mi portava all'esasperazione per un attimo rimase immobile come un manichino con la caffettiera ancora fumante in una mano e la tazzina nell'altra ma che ti prende fu la frase che gli uscì di bocca ancora oggi non saprei dire se in quel momento fosse più umiliato o intimorito non ero mai stata così perentoria mi prende che non ti voglio più intorno risposi gelida non sono tenuta a spiegarti cosa mi prende battene ecco Diego quando una storia finisce c'è sempre uno dei due che sa perché e l'altro no oppure tutti e due sanno ma solo uno si prende la responsabilità di dirlo beh intanto non esiste il comune accordo e questo è un'altra fictio iuris se ci pensate bene avete mai sentito parlare di accordi separati non esiste il comune accordo semmai succede che magari si arriva insieme alla consapevolezza che la cosa stia finendo ma finché nessuno pronuncia la parola che è separazione tutto più o meno non come dire ristagna in una quiete un po' precaria appena uno dei due si incarica di dire quella parola scatta un processo velocissimo che rende le cose assolutamente inevitabili ed è qui che il libro spiega secondo me la parte centrale e cioè rispetto all'impotenza e alla frustrazione di accettare perché entrambi poi ricevono gli atti giuridici dei rispettivi avvocati a nessuno dei due piace l'atto dell'altro e allora hanno l'idea perché non ce lo scriviamo da noi un atto di separazione scriviamo da noi questi titoli di coda della vita insieme e lì c'è l'ultima parte che a mio giudizio è quella più importante per me nel libro in cui loro vanno via dalla loro casa scegliendo un territorio neutro all'interno del quale riraccontarsi e scrivere da sé questi titoli di coda e vanno in una vecchia casa che era stata di Fosco e che lui pensava di aver tradito questo è una cosa diciamo il momento più autobiografico del libro perché io penso mi sento colpevole di aver tradito l'infanzia che credo che sia un reato comune a noi tutti io penso che c'è stato un momento della mia vita in cui l'ho tradita in maniera consapevole cioè sono andato via da un posto che avevo amato perché l'avevo perso e ho voluto tagliare consapevolmente i ponti con una parte importantissima della mia vita e con questo libro ho cercato di ritrovarla e quando mi sono messo a scrivere avventurandomi in quest'altro sentiero che è un sentiero differente da quello principale mi sono accorto che il tema del tradimento dell'infanzia e quello della sintassi dell'addio diventavano una cosa sola non c'è molta differenza tra perdere un amore e perdere l'infanzia perdere l'infanzia e perdere l'amore però c'è una cosa c'è una cosa su cui vorrei chiudere perché è importante perché sembrerebbe un libro disperante e invece secondo me è una cosa di cui mi sto rendendo conto invecchiando nella perdita non c'è solo dolore non c'è solo abbandono la perdita è una forma di acquisizione è una forma di comprensione di ciò che intimamente ci appartiene perché io penso che noi siamo costituiti soprattutto da quello che ci manca non da quello che abbiamo conservato e tratteniamo è una frase grazie Diego è una frase che mi porto a casa intanto rimanete qua è il momento della buonanotte questa sera volevamo una storia che ci avvicinasse al 7 ottobre e l'abbiamo trovata è una storia che è un film la donna si chiama Almog abita in un kibbutz ad appena un chilometro e mezzo dalla striscia di Gaza e all'alba del 7 ottobre 2023 è aggrappata alla maniglia della porta del suo mamad con le persone che ama di più al mondo i suoi bambini e sua madre il mamad è una stanza della casa una stanza normale con le pareti in cemento ma è stata concepita per rimanere in piedi nel caso venisse colpita da un missile la porta è in metallo infatti proprio per ripararsi dalle schegge ma ha una serratura che può essere aperta dall'esterno così da permettere l'intervento dei soccorritori e questo sarà un problema ovviamente perché stavolta il pericolo non arriva dal cielo Almog sente all'improvviso delle grida in arabo delle esplosioni dei colpi di mitragliatrici è terrorizzata ma non è il suo non è ansia non è paura sono sentimenti che ha già provato è proprio qualcosa di ancestrale e guarda i suoi cari la madre immobile e i bambini seduti sul letto in silenzio li guarda ed escogita la mossa che risulterà decisiva scatta fuori dalla stanza rifugio va a chiudere a chiave la porta di casa e poi di corsa torna a chiudersi dentro il rifugio intanto guarda il telefono e sul gruppo di whatsapp i vicini di casa stanno già cominciando a scambiarsi i primi messaggi drammatici mandate qualcuno ci stanno trucidando la nostra casa va a fuoco Almog li legge tutti ma comanda a se stessa di non perdere la testa racconta favole ai suoi bambini gioca a carte con sua madre e riesce a fare tutte queste cose senza mai staccare la mano da quella maniglia dopo qualche ora i bambini si addormentano e l'idea che la morte possa accogliere nel sonno in qualche modo la tranquillizza ma è proprio allora che sente il rumore più forte gli uomini di Hamas sono alla sua porta è il momento delle scelte sono scelte che farebbe qualsiasi madre Almog nasconde i bambini sotto una coperta nella parte superiore del letto castello poi mette sua madre nel letto di sotto e si sistema accanto a lei e pensa se entrano e sparano mireranno in basso potrebbero accontentarsi di uccidere me e mia madre e andarsene senza alzare lo sguardo senza vedere i bambini gli assalitori stanno provando a forzare la porta ma non di casa ancora quella di casa ma non ci riescono e incredibilmente si dirigono altrove perché dico incredibilmente perché come nella lettera rubata di Paul del racconto di Edgar Allan Poe non si accorgono che tutte le finestre sono aperte potrebbero scavalcare ed entrare ma non vedono le finestre infatti entreranno altri dopo entreranno dei civili che saccheggeranno la casa e alla fine entrerà l'esercito israeliano per portare in salvo Almog e la sua famiglia in salvo Almog è salva sì ma è distrutta a lividi che non si vedono come quelle di cui parlavamo prima e che fanno molto male pensate questa donna ha dato a lungo lavoro ai palestinesi nel kibbuto proprio perché è convinta da militante di sinistra qual è? che chiunque trovi un po' di benessere non potrà che volere la pace e all'improvviso ha visto andare in frantumi di ideali nei quali ha creduto fino a un attimo prima ed è proprio lei a scriverlo in una lettera che ha pubblicato questa settimana la stampa adesso Almog vive a Gerusalemme sua figlia sua bambina è ancora piena di paure si svena di notte all'improvviso e suo figlio ha iniziato a compiere dei piccoli atti di autolesionismo sono rimasti vive dice ma non sono più loro e forse non torneranno mai più a esserlo appieno anche se lei li ha protetti con quel coraggio che ti dà solo l'amore quando è così incondizionato questa storia è avvenuta il 7 ottobre del 2023 in un kibbut abitato da una famiglia israeliana ma storie analogo continuano a succedere ogni giorno a Gaza dove anche le Almog palestinesi tentano di proteggere i loro figli pur sapendo che anche chi di loro sopravviverà sarà comunque un po' morto dentro per sempre così ritornano alla mente le parole della ex premier israeliana Golda Meir Arabi noi vi potremo un giorno perdonare per aver ucciso i nostri figli ma non vi perdoneremo mai per averci costretto ad uccidere i vostri insomma servirebbe un disarmo delle menti un disarmo dei cuori servirebbero meno fanatici e più madri anche tra i maschi anzi soprattutto tra loro in altre parole Saavedra Raimondo stava dicendo che lei aveva 10 in elasticità muscolare educazione guardi a freddo così vede tocco terra incredibile lei dice con queste gambette però intanto ci riesco Uco 40 anni 40 anni così ragazzi tanta roba può andare avanti mi va avanti così mentre io posso andare avanti così lei vado avanti allora dunque la sua domenica la mia domenica la decide lei fa questi esercizi tutto il giorno ecco ora domattina farà un piegamento e l'altro mi ascolta flash certo però in realtà sarà credo al tredicesimo ascolto ho già ascoltato lo può anche usare mentre fa ginnastica poi mi va online è capace a prendere i biglietti online del tour sono capace sono capace non ho soldi sul conto però è un problema so se puoi magari agevolare poi dopo un pranzo leggero mi raccomando mi legge i titoli di coda di una vita insieme che non è la nostra autobiografia quella la scriveremo però ecco è il romanzo di Diego De Silva e quando arriva i titoli di coda di titoli di coda mi va al cinema a vedere famiglia famiglia senza la giro lei lo scrive anche in italiano senza la giro in questo caso in latino con Barbara Rocchi e la sera mi dirà e la sera me lo dica me lo dica e la sera e la sera la sera visto che me lo chiede dalle 20 e 35 si sintonizza sulla 7 per la versione tascabile di note e parole domenica dove ospiteremo la consueta perplessità del professor Zagrebelsky e la segretaria del PD Ellie Schlein ah le tagliacompagnia almeno lei in effetti ora che l'ha mollata tutti faremo il campo largo domani sera improvviseremo un campo largo intanto auguro a tutti voi una buonanotte a tutti voi a casa fate dei sogni a domani sera grazie a tutti 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 Grazie a tutti